Buongiorno a tutti, benvenuti a Sala Zuccari del Senato, il convegno Energia Bene Comune, organizzato grazie al senatore Trevisi a cui lascio la parola per i saluti di benvenuto e per l'introduzione dell'argomento di oggi. Sì, allora grazie Roberta, innanzitutto questo è un tema fondamentale, voi pensate cosa sarebbe il mondo senza energia, se noi oggi non avessimo energia non potremmo utilizzare il microfono, avere l'illuminazione, avere il riscaldamento nelle nostre case, in realtà l'energia non è un fattore produttivo come gli altri, è un fattore produttivo fondamentale anche forse più importante del denaro stesso, perché senza energia veramente non avremo quel fattore che alimenta le nostre industrie, quindi capite quanto è importante avere energia disponibile, sicura e a basso costo, perché poi in base al costo dell'energia viene influenzato anche lo sviluppo economico del Paese, la competitività di un'impresa dipende anche dal costo dell'energia, se noi abbiamo un costo dell'energia più alto avremo sicuramente dei prodotti, dei manufatti più costosi, quindi non saremo competitivi a livello internazionale. Noi in realtà, come spesso vogliono farci credere, ci dicono che siamo un Paese povero di energia, in realtà questa cosa era vera fino a una ventina di anni fa, 15, finché le fonti rinnovabili non hanno sviluppato dei sistemi di trasformazione dell'energia economicamente sostenibili. In realtà oggi l'energia solare è l'energia più a basso prezzo del mondo, non c'è fonte di energia più economica dell'energia solare, noi siamo un Paese ricco di energia solare, quindi le nuove fonti di energia sono ben presenti nel nostro Paese e proprio le aree, quelle meno sviluppate, il Mezzogiorno d'Italia, hanno delle rese molto più alte delle aree più sviluppate, quindi diventa anche un fattore strategico per il nostro Paese, per le aree depresse, che grazie all'energia a basso costo prodotta dalle fonti rinnovabili possono tranquillamente avere questo fattore competitivo che è fondamentale, sapete che Enel a Catania sta facendo una gigafattori per produrre i moduli fotovoltaici, perché una delle scuse che dicono passeremo dalla dipendenza energetica delle fonti fossili alla dipendenza dei pannelli, ma non è vero. Innanzitutto quando compro un pannello fotovoltaico mi dura 30 anni, non è come comprare il gas che lo brucio e finisce lì, quindi un impianto non può essere, diciamo, l'energia al sole è gratuita, ma un impianto non può essere assolutamente confrontato con un combustibile fossile, sono due cose altamente diverse e poi nulla vieta, come sta facendo Enel, di produrlo nel nostro Paese e magari fare dei bandi pubblici ristretti solo a produttori europei, questo lo possiamo fare, quindi le imprese che hanno paura, e questo io lo dico da tempo, per esempio sto facendo una legge sulle concessioni dei parcheggi fotovoltaici, quelle concessioni lo Stato le dovrà vincolare solo a impianti prodotti in Europa, da produttori europei così evitiamo anche il dumping cinese. Oggi la Cina sta svendendo i moduli a basso prezzo, vi faccio che un kilowatt di pannelli fotovoltaici costa 150 euro, sono arrivati a prezzi ridicoli, quindi capite che produrre energia da fonti rinnovabili, soprattutto al solare, oggi costa mediamente dai 2 a 3 centesimi a kilowatt, rispetto agli 8-9 del gas, più considerando l'esternalità che questi combustibili, o rispetto ai 14-15 del nucleare, nucleare, che ancora, diciamo, questi mini reattori sono previsti fra 10 anni, la fusione oltre il 2050, fra 50 anni, quindi capite che non è una cosa che ci possiamo porre oggi, non è una soluzione oggi, oggi la soluzione è l'energia solare, ecco perché parliamo di comunità energetiche e lo facciamo con diversi esperti. Io, logicamente, sulle comunità energetiche vi dico seriamente che vedo sempre la criticità del finanziamento, ecco perché Roberta ha voluto invitare anche degli istituti bancari di primo piano sul panorama nazionale, stiamo felici che sono qui con noi, proprio per capire come finanziare, perché la mia legge originaria, quella che ho sempre sostenuto in Puglia, che ho fatto quando ero consiglia regionale, era il reddito energetico, cioè la mia idea di fotovoltaico è che ci sia lo Stato, la regione che dia gratuitamente gli impianti fotovoltaici a tutti i cittadini, però con l'obbligo che l'energia non utilizzata dal cittadino, sapete che il cittadino va a lavorare, va in vacanza, quindi l'energia in surplus che è una buona parte, è oltre la metà dell'energia, se la rivenda allo Stato, quindi capite che oggi investendo 10 miliardi, buttando o mettendo 10 miliardi sull'energia solare nel sud Italia, noi abbiamo una resa come quantità economica di energia, pensiamo in 10 centesimi, 15 centesimi al chilo watt prodotti nei 30 anni successivi, di circa 60-70 miliardi, quindi se noi investiamo 10 miliardi sul fotovoltaico, in 30 anni avremo almeno 60-70 miliardi di energia nel sud Italia, quindi capite bene che se noi facciamo un investimento di questo tipo e 20 miliardi di energia se riprende lo Stato e 40 li lascia i cittadini nei 30 anni successivi agli impianti, capite bene che questo è un investimento sostenibile dal punto di vista finanziario, economico e ambientale, quindi noi dovremmo fare quello che io ho chiamato reddito energetico, lo possiamo chiamare in un altro modo indipendenza energetica, cioè fare un piano massiccio di investimento solarizzando tutti i tetti delle imprese, delle case, dei parcheggi, con questo meccanismo. Una parte dell'energia va a chi ha finanziato l'impianto e il resto va al cittadino, al comune, all'impresa per abbattere le bollette. In questo modo noi introduciamo un meccanismo di sviluppo competitivo, facile, veloce, easy, accessibile a tutti e diamo la possibilità al nostro paese di raggiungere i target, gli obiettivi che si è dato a livello comunitario. Quindi lo possiamo fare, non lo facciamo perché evidentemente, io sono sincero, c'è chi non vuole questo, perché c'è chi vuole continuare a vendere l'energia in maniera centralizzata, perché dietro la vendita di energia, l'indipendenza energetica, logicamente sgonfia i fatturati di chi vende l'energia in maniera centralizzata e quindi chi sono, chi vi fa, chi vi recapita la bolletta. È normale che queste lobby influenzano molto i governi nazionali, perché sono delle lobby potenti, quindi da un lato l'indipendenza energetica, quello che io vi ho detto è molto conveniente ai cittadini, ma ci sono comunque grosse imprese che non sono pronte, non sono pronte a questa transizione, quindi non è che la transizione energetica non sia conveniente, è conveniente per il nostro paese, è conveniente per i cittadini, è conveniente per le imprese, però capite che, e questo lo potete vedere, che aveva impianti fotovoltaici, non ha subito la crisi energetica. Parlate con tutte le imprese che hanno investito sulle fonti rinnovabili, quando c'è stato l'aumento del prezzo del gas loro non hanno subito la crisi energetica, ma l'ho vista a casa mia, io ho l'auto elettrica, me l'alimento con l'impianto fotovoltaico, lo faccio da un po' di anni e vi assicuro che i costi in bolletta sono bassissimi, quindi è una cosa che ho provato anch'io e l'ho costruita proprio testandola e funziona, dobbiamo solo capire che l'energia solare è una ricchezza che il sole ci mette a disposizione, lo dobbiamo usare, non ci sono scuse, lo possiamo fare, dobbiamo solo trovare il meccanismo giusto. Le comunità energetiche sicuramente è un meccanismo fondamentale, ma secondo me c'è un meccanismo ancora più forte che quella di una comunità energetica italiana gestita dallo Stato dove andiamo a finanziare tutti gli impianti fotovoltaici per chi lo potrà fare sui tetti delle famiglie, delle imprese e dei parcheggi. Io già ho legiferato in tal senso, le mie leggi sono disponibili al sito del Senato, quindi la mia attività legislativa l'ho quasi completata, adesso sto facendo la legge sulla concessione dei parcheggi fotovoltaici, perché abbiamo tantissimi, pensate no, i parcheggi asfaltati vicino le spiagge, la comodità di andare, di caricare l'auto elettrica e andare al mare e avere poi la macchina fresca. Sono tutti progetti win-win, ditemi qual è il difetto, dice no vabbè però esteticamente, ma esteticamente cosa? Quando avete asfaltato un parcheggio che vuoi da quel terreno dopo che è stato asfaltato? Non sarà sicuramente la benzina fotovoltaica. Penso che ho parlato troppo, quindi lascio la parola a Roberta e agli ospiti che sono appena arrivati e quindi poi per qualunque cosa, magari domanda, ci aggiorniamo a fine convegno. Grazie. Grazie Antonio. Grazie Antonio anche per aver colto la sollecitazione che è partita un anno fa, tra l'altro, di organizzare questo incontro di riflessione sul tema comunità energetiche rinnovabili, nel frattempo poi abbiamo anche ampliato quello che era il tema, quindi non saremo strettamente focalizzati solo sul tema delle cera, anche se sarà sicuramente centrale rispetto all'andamento del convegno perché nel frattempo altri influenze, altri cambiamenti nelle scenari geopolitici internazionali sono avvenuti in quest'ultimo anno e quindi il tema energetico che era già entrato nella quotidianità, nella nostra quotidianità con il conflitto russo-ucraino e con l'improvvisa impennata di prezzi relativi al costo del gas e quindi dell'energia elettrica aveva già portato alla nostra attenzione il tema. Come abbiamo costruito questa giornata? Vedete accanto a noi già un primo panel nutrito che affronterà i temi, diciamo quello da cui tutto nasce, cioè il tema del clima fondamentalmente e come l'Europa si è organizzata sul territorio nazionale ma non solo nazionale italiano, in tutti i paesi che ne fanno parte per andare a creare anche una sinergia tra l'istituzione centrale europea e i cittadini proprio sul territorio per andare a far capire come il clima, come il cambiamento climatico poi influenzi anche il modo in cui noi facciamo energia. Se pensate che tre quarti delle emissioni clima alteranti provengono proprio dal modo in cui noi produciamo, trasportiamo e consumiamo energia. Dall'Europa passiamo all'Italia e come ricordava Antonio anche l'occasione con cui partì l'idea di fare questo convegno è capire come chi non beneficerà di quelli che sono i contributi pubblici legati alle comunità energetiche in questo caso ma anche insomma i contributi pubblici sul modo di fare energia possa accedere a capitali privati da istituti di credito, enti di finanziamento e come loro si stanno organizzando proprio per andare a incentivare, a promuovere, a sostenere quella che è la transizione energetica del nostro Paese. Dopodiché torniamo, anzi chiuderemo questo primo panel e poi vi presenterò il secondo successivamente con un mio collega di vecchio corso che ha uno studio legale, è tornato alla sua vita civile, ha continuato l'attività del suo studio legale e ha focalizzato l'attenzione sul natura giuridica delle CER e come strutturare la CER secondo una certa natura giuridica o un'altra possa aprire delle opportunità diverse di sviluppo. Quindi io partirei intanto introducendo il dottor Domenico Pecere, ambasciatore del Patto Europeo per il Clima per la Commissione Europea e chiederei al dottor Pecere innanzitutto cos'è il Patto per il Clima e chi sono questi ambasciatori e qual è il valore aggiunto che state portando nel tema della lotta al cambiamento climatico. Prego. Grazie, benvenuti a tutti. Ovviamente devo ringraziare il senatore Antonio Trevisi non solo per aver organizzato questo incontro ma per aver dato la possibilità di parlare a quest'aula del Patto Europeo per il Clima. È un'iniziativa della Commissione Europea partita dal 2020 è un ramo del Green Deal quindi da quel processo che l'Unione Europea insieme alla Commissione Europea hanno voluto portare avanti per stravolgere perché parliamoci il Green Deal ha stravolto completamente la visione politica dell'Unione Europea e quindi anche dei Paesi membri dando quella svolta green. Sono Domenico Pecere, non so se è possibile visualizzare le slide. Sono stato nominato dalla Commissione Europea ambasciatore del Patto Europeo per il Clima nel 2021. È una carica onoraria su base volontaria ma c'è una selezione da affrontare e la carica dura un anno e previo rinnovo. Ovviamente il rinnovo è soggetto a una valutazione scrupolosa da parte della Commissione Europea, della Direzione Generale Clima della Commissione Europea e ho avuto anche l'onore di essere riconfermato per tutto il 2023 e il 2024 insieme anche alla collega Luciana Pavaro. Il Patto Europeo per il Clima, confermatemi se è possibile. Le slide, c'è qualche problema? Vediamo. Eccole. Perfetto. l'altro. Sono Di Equilibrio, il relatore successivo? Partiamo dall'inizio. È preventivo il grazie per l'attenzione, per sollevare come dire subito l'attenzione del pubblico a casa e in partiamo con la prossima di presentazione. Allora, sono Domenico Pecere, sono stato appunto nominato dalla Commissione Europea, ambasciatore del Patto Europeo per il Clima nel 2021. Mi occupo ovviamente anche di altro, sono un aeroprogettista, sono una sustainability manager e ho uno studio di consulenza a Bari in Puglia e sono socio del project manager certificato e sono socio di due associazioni, una internazionale e una nazionale di project management e mi occupo e in questo caso aiuto anche le imprese, le associazioni e gli enti locali ad accedere anche a fondi europei diretti e indiretti per progetti di sostenibilità ambientale. Successiva. Allora, abbiamo detto che cos'è il Patto Europeo per il Clima? È un ramo del Green Deal dedicato ai cambiamenti climatici. La Commissione Europea dal 2019, quando ha introdotto il Green Deal, si accorta che il messaggio della transizione energetica ma della svolta green di fare dell'Unione Europea il primo continente neutrale dal punto di vista climatico, ecco questo ambizioso traguardo ha capito che il messaggio veniva filtrato troppe volte a livello istituzionale perché passava attraverso i paesi membri, i governi, i governi lanciavano questo messaggio attraverso gli enti del localizzati, quindi le regioni, le province, i comuni. Quando arrivava al cittadino il messaggio era davvero debole. Ha pensato bene di creare questa comunità del Patto Europeo per il Clima e nominare delle sentinelle sul territorio perché credo che sia forse la definizione più appropriata, ma gli ambasciatori del Patto Europeo per il Clima sono delle sentinelle sul territorio che cercano di coinvolgere cittadini, istituzioni, amministrazioni locali, associazioni, imprese a intraprendere quell'azione per il clima dettata appunto dal piano generale che è il Green Deal. Cosa facciamo? E' chiaro che siamo limitati a ciò che ci offre e alle opportunità che ci dà oggi il mercato e le direttive e le normative dell'Unione Europea. Oggi si accennava già prima un importante passo avanti del Parlamento Europeo, ha approvato finalmente anche la direttiva sulle case Green, ma parliamoci chiaro, se siamo qui oggi a parlare di energia, di clima, di cambiamenti climatici, lo dobbiamo soprattutto all'Unione Europea che ha intrapreso questo processo completamente differente da quello che magari la visione politica che in passato adottava e non ha la presunzione di risolvere il problema climatico ed energetico di tutto il pianeta ovviamente. Pensate, l'Unione Europea, gli abitanti dei paesi membri dell'Unione Europea impattano sul clima a livello energetico solo il 7%, quindi pensate che l'Unione Europea sapeva benissimo che con il suo 7% non poteva risolvere il problema climatico mondiale, ma ha l'ambizione di essere il primo continente al mondo a intraprendere questo percorso verso le emissioni zero e fare da promotrice per convolgere gli altri paesi, gli altri continenti a intraprendere la stessa strada, perché solo insieme possiamo raggiungere la neutralità climatica globale. Siamo ospiti su questo pianeta e non siamo neanche gli unici, perché nel pianeta ci vivono anche animali, esseri viventi, esseri vegetali, quindi dobbiamo rispettare e proteggere il nostro pianeta e il fenomeno del greenwashing deve essere davvero preso in serie considerazione e anche qui l'Unione Europea ha inasprito un po' le procedure, anche le regole di parlare di sostenibilità ambientale, perché c'è ovviamente dello scetticismo, ma la scienza su questo ha poco da dubitare. Le cause del cambiamento climatico sono anche e soprattutto causate negli ultimi due o trecento anni dalle attività dannose dell'uomo causate dall'era industriale fino ai giorni d'oggi. C'è un innalzamento incontrollato della temperatura del nostro pianeta e se superiamo questo grado e mezzo che è l'ambizione e il traguardo, il tetto massimo che possiamo superare, accordo tra l'altro stabilito a Parigi, quindi finalmente un accordo vincolante per i paesi, 190 paesi hanno aderito all'accordo di Parigi. Ecco, se superiamo questo grado e mezzo rischiamo davvero delle conseguenze molto gravi. Brevemente vi accenno come siamo strutturati, ovviamente il patto per il clima fa parte della direzione generale del clima in Commissione Europea, dove vedete c'è un organigramma molto nutrito, dove c'è il commissario, ci sono i direttori generali, c'è tutto l'apparato, poi i funzionari, è una bella squadra e da qui nascono le direttive europee, da qui nascono tutte le iniziative, le azioni che poi portiamo avanti sui territori. Il patto per il clima prevede delle attività, prevede delle risorse, invito ovviamente tutti a visitare il sito del patto per il clima e c'è la possibilità anche di incontrare gli ambasciatori, c'è una sezione dedicata, quindi qualora le amministrazioni comunali, le associazioni, le imprese vogliono contattare un ambasciatore sul proprio territorio, lo può trovare tranquillamente sul sito nella sezione dedicata. E poi abbiamo delle iniziative, delle azioni messe in campo ad oggi e sono quattro le principali, sono le clima e il walk, sono delle vere e proprie passeggiate all'interno della natura dove si discute, si divulga appunto la diffusione, tutte le tematiche ambientali legate ai cambiamenti climatici. Abbiamo le fotostori di cui magari poi vi accenerà meglio anche la collega Luciana Pavaro, sono delle iniziative, dei percorsi molto itineranti dove attraverso le foto si descrive l'ambiente, la natura e anche i fenomeni legati al cambiamento climatico. Poi abbiamo il peer parliament che in sostanza potrebbe essere considerato anche questo oggi, sono delle iniziative che gli ambasciatori del patto europeo portano avanti sui territori, incontri di più persone dove anche consegnando del materiale informativo poi si discute, si consegna un questionario e l'ambasciatore redige un report che poi invia in Commissione Europea. L'insieme di questi report poi influisce notevolmente sulle iniziative che porta avanti la Commissione Europea. E local climate action sono attività di gruppo ovviamente che possono fare chiunque rivolgendosi appunto a noi ambasciatori del patto europeo per il clima. Concludo il mio discorso legato all'energia perché abbiamo parlato di energia e una delle altre importanti iniziative che la Commissione Europea ha introdotto già nel lontano 2008 ma l'ha rivisto qualche anno fa è il patto dei sindaci. Noi ambasciatori del patto europeo per il clima siamo anche tenuti a monitorare in certo qual modo e a convolgere e motivare le amministrazioni comunali a redigere i piani di energia sostenibile e del clima in PAISC che la Commissione Europea attraverso il patto dei sindaci ha chiesto a tutti i sindaci quindi le amministrazioni comunali di unirsi attraverso la firma di questo patto e redigere dei piani di azione per il clima per ridurre entro il 2030 del 55% le emissioni nei propri comuni, nelle proprie città e raggiungere quel traguardo di emissioni zero entro il 2050. Il patto dei sindaci ha avuto un periodo di stand by perché ovviamente i comuni potete immaginare sono berati di attività, poi c'è stata la pandemia, è stato rivisto nel 2021 e i nuovi firmatari hanno tre pilassi fondamentali quello dell'adattamento al cambiamento climatico, la mitigazione e finalmente è stata introdotta l'azione della povertà energetica di cui parlava giustamente il senatore Trevisi, finalmente nelle PAISC i comuni dovranno redigere una relazione su cosa intendono fare per ridurre la povertà energetica all'interno dei propri comuni. Il patto del PAISC sono addirittura anche finanziati dagli enti locali, dalle regioni sotto forma di voucher e i comuni devono affidare l'incarico ovviamente a un tecnico abilitato e approvarlo in consiglio comunale. Questo è un passo molto importante per ridurre le emissioni nei comuni perché se non agiamo in maniera coesa, se a livello territoriale ogni cittadino non si impegna a ridurre singolarmente le proprie emissioni, non possiamo raggiungere questo ambizioso traguardo dell'emissione iniziale nel 2050. E concludo, questo è il processo, dalla firma del patto all'approvazione in consiglio comunale, ogni due anni un'amministrazione comunale che ha firmato il patto deve consegnare in Commissione Europea questo report. E concludo dicendo appunto che dobbiamo agire in maniera coesa, questo incontro è l'esempio di quello che più soggetti, più enti, più professionisti devono lavorare e andare in un'unica direzione, è quella giusta altrimenti davvero rischiamo di una crisi climatica che è già in atto in molti continenti. Noi in Italia siamo ancora a un livello accettabile ma in alcune parti del mondo ci sono già degli esodi, già è difficile vivere, già c'è una scassa risorsa idrica, quindi non pensiamo che siccome noi stiamo ancora diciamo bene possiamo procrastinare queste attività. È importante agire insieme e vi ringrazio questa opportunità e passo la parola al prossimo redattore, grazie. Grazie dottor Pecere. Allora rimaniamo sempre sul tema del patto europeo per il clima e delle figure degli ambassatori per il clima che sono diciamo i primi avamposti dell'azione del Green Deal e del patto per il clima sul territorio, di cui poi le comunità energetiche sono un'organizzazione sul territorio, proprio una realizzazione concreta di questo patto per il clima. Do la parola alla dottoressa Luciana Favaro che è la presidente di Euclipa, stiamo facendo euclipa.it perché ero già proiettata sul sito e le chiedo di spiegare esattamente il valore aggiunto che Euclipa porta all'azione degli ambassatori. Benissimo, grazie, buongiorno a tutti. Dunque sì, anche io avrei delle slide che erano quelle precedenti. Sono come domenico un'ambasciatrice del patto europeo per il clima. come diceva domenico, il patto è nato nel 2020. Io sono tra i primissimi, anzi i primi 26 ambasciatori italiani del 2020 e ho partecipato anche prima dell'approvazione e della pubblicizzazione del patto alla co-creazione del patto, nel senso che l'Unione Europea ha fatto nascere questa iniziativa con l'aiuto dei cittadini. Non è stata una cosa imposta dall'alto, avevano avuto questa idea di coinvolgere i cittadini direttamente sul Green Deal e hanno fatto dei workshop online. Eravamo nel periodo della pandemia e io ho avuto modo di partecipare. Avevamo dei gruppi di lavoro distinti ed è stata veramente un'iniziativa che mi ha fatto sentire l'Unione Europea molto vicina. Sono un'ambasciatrice ma sono anche la presidente di Euclipa. Euclipa, gli ambasciatori del patto europeo a livello Europa sono attualmente circa 900. In Italia siamo oltre 100, credo adesso siamo arrivati a 120. Quindi anche una buona percentuale nel senso che ci sono tantissime richieste dall'Italia per diventare ambasciatori. 30 di questi 120 già dall'inizio, dai primi dal 2000, hanno deciso di non lavorare singolarmente ma di riunirsi e lavorare insieme. Perché ci siamo accorti che avevamo delle professionalità diverse. Io per esempio non sono un'esperta di clima, sono una ricercatrice ma in linguistica educativa. Io mi occupo di come avvicinare i bambini alle lingue straniere in tenerissima età. Quindi io avevo bisogno, mi occupo di comunicazione da una vita, ma avevo bisogno di avere vicino qualcuno che potesse garantirmi che quello che avremmo detto avesse delle basi scientifiche solide. E quindi l'idea di riunirci dapprima in una comunità informale, poi invece in un'associazione strutturata viene da lì. Infatti appunto siamo una trentina di ambasciatori ma l'associazione è aperta anche ad altri cittadini. Perché? Noi ci siamo accorti che in Italia l'inglese è ancora una, parlo da linguista, è una barriera. Molte persone che conosco anch'io e che ho invitato a diventare ambasciatori sentivano che non si sentivano tranquilli di dover colloquiare magari con la commissione, col segretariato in inglese. Quindi abbiamo deciso anche di aprire l'associazione a cittadini che vogliono collaborare senza prendere un impegno formale con l'associazione. Da poco Euclipa è diventata anche partner del Patto Europeo per il Clima. Questa è una nuova iniziativa che il patto rivolge a organizzazioni, istituzioni, scuole, università, che vogliono avvicinarsi al patto come istituzioni. È stata fatta la prima call in dicembre, 440 le richieste a livello europeo, 31 i nominati e Euclipa è uno di questi 31 e ne siamo molto fieri. L'obiettivo di Euclipa, ovviamente seguendo quelli che sono i valori del Patto Europeo per il Clima, è che noi ci impegniamo con una lettera, una dichiarazione firmata a seguire. È quello naturalmente di informare sul fatto che la crisi climatica è qui e ora, ma adesso soprattutto quello di cercare di coinvolgere i cittadini nelle politiche climatiche locali. Prima Domenico accennava al Paes, al Patto dei Sindaci. Io mi sono resa conto che nessuna delle persone che conoscevo nella mia città, io vengo da Venezia, sapeva cosa fosse il Patto dei Sindaci, che cosa fosse il Paes, che è da un documento invece estremamente concreto, che dice se la scuola di mio figlio verrà efficientato, verranno messi dei pannelli fotovoltaici oppure no. Quindi una cosa che dovrebbe interessare i cittadini. Allora, sono varie le iniziative che facciamo, c'è un livello di coinvolgimento che riguarda il mondo della scuola, che in generale non solo degli studenti, questa iniziativa che si chiama Nudge for Climate, Nudge vuol dire spinta gentile, questa teoria per cui che ha vinto, l'ideatore ha vinto un Nobel, Tyler, per cui anziché proporre degli obblighi o appunto delle punizioni per far fare le cose alle persone, si pensa invece di dare delle spinte gentili. Cosa significa? Significa decidere prima qual è il cambiamento che vogliamo portare, in questo caso ovviamente cercare di incentivare comportamenti virtuosi verso il clima e organizzare l'architettura di un luogo, in questo caso la scuola, per fare in modo di indurre con delle spinte gentili le persone a fare queste cose. Abbiamo realizzato delle guide che sono scaricabili del sito di Euclipa, la prima guida è rivolta alle scuole ma in realtà noi adesso pensavamo anche di andare nei comuni, perché sono cose che si possono applicare anche in una città. Autofinanziata. Autofinanziata, sì con un crowdfunding, infatti era prima che avessimo l'associazione abbiamo dovuto fare un crowdfund. Esiste anche una guida che si chiama Sei un cittadino energetico che spiega appunto buone pratiche per ridurre i consumi di energia, eccetera. Ecco, questo è un banalissimo esempio di Nudge, fatto in una scuola di un liceo francese, i ragazzi della scuola hanno dipinto vicino agli interruttori della luce e delle illustrazioni che fanno capire come dietro a quell'interruttore ci sia un mondo di infrastrutture e di energia. Questo per indurre chi preme o non preme quel pulsante a capire che non sta facendo una cosa banale e che quindi deve pensarci prima di accendere la luce. L'altro grande progetto che è quello a cui veramente in questo momento puntiamo di più e che riguarda il coinvolgimento dei cittadini in generale, stiamo attivando degli osservatori climatici locali. Questo è quello della mia città, di Venezia, che abbiamo attivato. La cosa bella di Euclipa è che io sono di Venezia, ma per esempio lì con me c'è un ambasciatore di Monza, Gianni Tartari, che è un ex dirigente del CNR e che quindi mi dà quella sicurezza che quando parlo non dico cose che non siano appunto scientificamente valide. E questo è un gruppo di cittadini veneziani a cui abbiamo spiegato che cos'è il patto dei sindaci, che cos'è il PAESC, perché? Perché Venezia ha firmato il patto dei sindaci quattro anni fa, ma il PAESC che normalmente deve uscire entro due anni dalla firma non è ancora uscito e noi stiamo cercando di fare in modo, cioè io contatto spesso il Comune di Venezia per chiedere quando uscirà e dovrebbe uscire, mi dicono, nelle prossime settimane. Nel frattempo però cosa abbiamo fatto? Abbiamo anche lavorato con questi cittadini insieme in un laboratorio di scrittura condivisa e nel frattempo abbiamo scritto una guida per altri cittadini per spiegare a loro che cos'è il patto dei sindaci, l'importanza del PAESC, come è strutturato il PAESC e una guida per leggerlo, quando uscirà, che comunque è una guida che poi può essere usata anche per altre città e per altri PAESC. Sempre legato a questi osservatori abbiamo attivato anche un progetto che si chiama Photo Voice, foto e voce, che è una tecnica di attivismo sociale che dà voce ai cittadini su temi nei quali di solito non vengono coinvolti e l'obiettivo è quello di fare dei laboratori in cui questi cittadini prima affrontano delle tematiche, nel nostro caso era il clima, nella città e vengono invitati, dopo aver fatto un po' di formazione, a produrre dei tetici fotografici, tre foto, su un determinato tema, una negativa, una positiva e una propositiva. Infatti la cosa bella del Photo Voice è che non è, è un'osservazione critica ma anche con un atteggiamento proattivo, diciamo. Questo è un esempio di trittico, il tema era le isole di calore e il verde pubblico che può essere una forma di adattamento a questo tema e appunto vedete c'è una foto, non ho il tempo adesso di spiegarvi cosa significano, ma appunto come vedete la foto ha una voce vicina che sono delle idee di Ascalie che peraltro nei laboratori Photo Voice vengono co-create dai partecipanti che spiegano esattamente qual è il tema. Per passare al tema di oggi anche su, e poi concludo, anche sull'energia bene comune abbiamo dei soci che stanno agendo e c'è per esempio un socio che si chiama Mauro Mussin, anche lui ambasciatore del patto per il clima a Milano, che già da un paio d'anni sta lavorando l'attivazione di questa chair che si chiama Campus Ghiesolfa e che si avvia a essere una delle prime chair in Italia con al centro una scuola. È una zona di Milano in cui c'è un comprensorio scolastico per cui in teoria un bambino può entrare al nido e uscire al liceo. E quindi l'idea era quella di usare, il loro motto di usare le energie giovani della scuola per produrre energia rinnovabile, sostenibile e poi diffonderla anche, rendere la scuola ovviamente autonoma, ma diffondere anche l'energia negli edifici, nelle condomini attorno soprattutto risolvendo problemi di povertà energetica. L'altro esempio è con questo chiudo un nostro socio ambasciatore che sta in Valsusa, in Piemonte, sta cercando di sensibilizzare l'unione dei comuni di Valsusa a seguire l'esempio di questo piccolo comune che si chiama Sangano, che sta lì e che si avvia anche questo a essere, speriamo, uno dei primi comuni sotto i 5.000 abitanti ad avere una certa. Riprendo al volo questo tema delle elezioni europee di giugno, per cui, come diceva Domenico, la Commissione europea ha messo a disposizione sul sito del patto queste quattro attività che vi ha mostrato prima, a cui possono partecipare i cittadini direttamente, anche senza l'aiuto degli ambasciatori, scaricando dal sito i materiali che servono per fare queste passeggiate climatiche, photo story, che è una versione ridotta del nostro photo voice, anzi ci hanno chiamato il segretariato dall'Italia per aiutarli a progettare il photo story, e che le abbiamo presentato rapidamente. E poi, tra queste, come diceva appunto, vedete, l'Unione europea invita tutti i cittadini europei a partecipare attivamente, scegliendo tra queste facili attività, coinvolgendo altri. Una di queste, appunto, è in tema, ed è il gruppi di azione climatica locale, che può essere semplicemente quella di organizzarsi con degli amici e fare un orto urbano pubblico, ma anche, come nell'esempio di questo nostro collega ambasciatore spagnolo, attivare una comunità energetica. Ecco, con questo chiudo e vi ringrazio. Grazie a lei, dottoressa Favolo, soprattutto ringrazio i due relatori che si sono attenuti strettamente dieci minuti concordati, questo per far sì di aver modo di poter ascoltare con la dovuta freschezza a tutti quanti i relatori e dare l'attenzione che meritano i loro interventi. Ringrazio inoltre, dottoressa Favolo, perché ha già, come dire, legato il tema Europa con il tema delle comunità energetiche rinnovabili, che poi, nell'interno del convegno di oggi energia bene comune, è, diciamo, l'asse intorno a cui tutto sta ruotando. Antonio ricordava, tra l'altro non lo vedo, ma perché sta facendo avanti Andrea con la sala del Senato che nel frattempo hanno anche del lavoro da fare in aula, ricordava, dicevo che avevo voluto portare, un anno fa quando abbiamo iniziato a parlare di questo convegno, avevo voluto portare il tema delle banche, proprio legandolo alle comunità energetiche. Questo perché? Perché durante i due anni di assessore alla transizione ecologica, andando a fare un lavoro di disseminazione sul territorio del Lazio in collaborazione con la Sapienza proprio per quel supporto scientifico che ricordava anche la dottoressa Favaro che deve essere il faro della nostra poi azione politica, mi ero resa conto che c'era bisogno di quella nudge di cui parlava la dottoressa, c'era una spinta gentile, una spinta gentile che sicuramente è venuta attraverso la misura del piano nazionale di ripresa e resilienza dedicata specificatamente alle comunità energetiche rinnovabili, ma che avrebbe visto investito per una applicazione, diciamo, un po' italiana della norma europea solamente le cerni comuni sotto i 5.000 abitanti. Rimaneva ovviamente platea immensa di comuni che non avrebbero beneficiato di quella misura specifica. Quindi un'altra azione di nudge è stata la programmazione europea che mettemmo in campo in quel momento legando a finanziamenti europei aperti alla platea di CER, indipendentemente dalla dimensione del comune dove insistevano a livello territoriale. Ma non bastava ancora perché magari non tutti avevano la pazienza anche ad aspettare che poi queste misure atterrano. Se penso alla programmazione europea 21-27, io l'ho disegnata nel mio ruolo di assessore, ma le misure arriveranno nei prossimi anni. Se qualcuno voleva partire prima, è vero che le comunità energetiche hanno una struttura per cui l'incentivo, se ben costruite, andrà a sostenere la cassa delle comunità stesse, ma è anche vero che delle spese di partenza vengono comunque affrontate dalle spese di costituzione, le spese relative agli impianti che sono sicuramente la voce più rilevante. E quindi ho detto ok, ma il privato, il mondo del finanziamento privato, le banche, gli istituti di credito, stanno iniziando a pensare che esiste quindi uno strumento giuridico che va sostenuto e finanziato per arrivare a essere anche loro protagonisti della transizione energetica. E da qui ovviamente, ci ho messo un po', però volevo ricostruire tutto il percorso logico. E da qui l'invito a due esponenti di due importantissimi istituti di credito italiano. Allora, intanto darei la parola al dottor Luca Mazzini, che è il direttore territoriale centro-sud del Banco BPM, che è il terzo gruppo bancario italiano, deriva dall'Unione delle Banche Popolari, quindi come dire, con una buona capillarità sul territorio, un'attenzione ovviamente a quelli che sono i bisogni di cittadini e di imprese. E parlando, aprendo anche in tempi non sospetti un'interlocuzione proprio con Banco BPM su questo tema dei finanziamenti, è venuta l'idea di invitarlo oggi. Quindi prego, lasciale la parola, chiedendole come il suo gruppo bancario si sta organizzando proprio per aiutare la transizione energetica del nostro Paese. Beh, innanzitutto grazie per l'invito, grazie per l'opportunità di essere qui oggi. Beh, qualcosa l'ha anticipato lei, no? Noi siamo Banco BPM, siamo il terzo gruppo bancario nazionale e la nostra storia proviene dai territori, perché noi siamo una banca molto radicata su tanti territori nazionali e siamo una banca molto vicina alle comunità di questi territori. Quindi già c'è un legame molto stretto al convegno di oggi, no? Le comunità e la sostenibilità. Le comunità che derivano dalla nostra storia, dalla nostra vicinanza, come dicevo, alle comunità e ai territori e l'altra è la sostenibilità. Sostenibilità di cui oggi non si può non tenere conto e noi come Banco BPM abbiamo dedicato un pilastro del nostro piano strategico 2024-2026 che è stato presentato ai mercati qualche mese fa proprio ai temi ISG e di sostenibilità. Quando si parla di ISG si parla ovviamente di ambiente, si parla di sociale, si parla di governance. Quando parliamo di comunità energetiche sicuramente parliamo di ambiente e di sociale, quindi ci sono degli elementi in comune molto forti tra quello che è la strategia, il pensiero della banca rispetto a quelle che sono le sensibilità dei territori e delle comunità in questo momento. Poi noi dal 2017 presentiamo un bilancio di sostenibilità, quindi invito tutti magari ad andare a scuriosare nel nostro sito internet perché troverete nel bilancio di sostenibilità molti elementi in comune rispetto a quelli che sono già stati trattati oggi e fanno parte del nostro quotidiano, del nostro vivere comune, cosa che a volte sembra molto lontana dal mondo finanziario, dal mondo bancario, invece è molto più vicina di quello che uno possa immaginare. Bilancio di sostenibilità e tematiche IEG che noi attuiamo in tantissimi modi diversi, ad esempio nel piano strategico noi abbiamo l'obiettivo di erogare finanziamenti alle piccole e medie imprese ogni anno e siano almeno per il 50% con caratteristiche green, quindi è un obiettivo che anno dopo anno perseguiamo e sempre nel piano strategico è stato dichiarato che da qui al 2026 noi erogheremo nuovi finanziamenti alle piccole e medie imprese green per oltre 10 miliardi di euro, quindi un impegno vero a contribuire alla transizione ecologica verso una economia più sostenibile. Poi lo facciamo anche con formazione perché noi facciamo formazione all'interno, quindi formazione ai nostri gestori che abbiano la possibilità di approfondire tematiche, quale ad esempio anche quelle delle CR, di tutta la normativa legata alle CR per poi offrire la propria consulenza ai nostri clienti e lo facciamo all'esterno, ad esempio partirà ora, io seguo il centro sud Italia, quindi seguo dal Lazio fino alla Sicilia di Banco BPM, partiremo con una serie di incontri sul territorio dedicato agli imprenditori nel quale affronteremo l'ISG, noi abbiamo chiamato l'ISG Factory che sarà un percorso itinerante su tutta Italia dove faremo formazione e consulenza agli imprenditori per parlare di tematiche di IRG. Ma come diceva la dottoressa Favaro, partiamo anche dalle scuole, quindi dall'educazione al comportamento dalle scuole. Qualche settimana fa ho partecipato io in prima persona, abbiamo organizzato insieme all'Osservatorio Giovani Editori un webinar dove abbiamo coinvolto oltre 50 scuole di Verona, Modena e Bari e abbiamo parlato dei 30 obiettivi dell'agenda 2030 dell'ONU proprio in temi di sostenibilità e ambiente, quindi lo facciamo anche all'esterno partendo anche dalle scuole. Poi anch'io sto, l'ho presa larga ma arrivo al tema delle comunità energetiche. Cosa facciamo concretamente poi per invece svolgere il nostro ruolo di finanziatori? Allora noi abbiamo due modalità di approccio a questo tema, uno deriva ovviamente dalla possibilità di fornire consulenza, quindi noi abbiamo partnership con delle realtà consolidate nazionali e internazionali che possono accompagnare le comunità fin dalla loro nascita, quindi dalla Costituzione piuttosto che dalla documentazione, piuttosto che dalla certificazione degli impianti e così via. Quindi la prima parte è la parte di accompagnamento, di advisory, di consulenza alle comunità energetiche. La seconda invece è attraverso l'offerta dei prodotti, dei prodotti di finanziamento, noi abbiamo in questo caso un approccio molto flessibile, quindi abbiamo la possibilità di concedere finanziamenti ordinari in cui si può anche avere la possibilità di seguire la comunità energetica in particolare poi noi ci orientiamo a finanziare il prosumer, la comunità energetica è una comunità che deve avere come minimo due soggetti, il prosumer che è il produttore e l'autoconsumatore e il consumer che è invece l'altro soggetto della comunità energetica. Ecco, la banca finanzia il prosumer che poi nel 99% dei casi è anche il proprietario dell'impianto, quindi noi andiamo a finanziare il prosumer con tutta la gamma dei nostri finanziamenti oppure con dei finanziamenti specifici, ad esempio abbiamo un finanziamento che si chiama obiettivo sostenibilità che ha un vantaggio in termini di condizioni economiche, quindi di tasso di interesse agevolato, che però deve essere ovviamente supportato da un approccio fair, cioè fonti energie rinnovabili, che implica la necessità da parte del prosumer di produrre tutta una serie di documentazione e per questo molto spesso ci si rivolge a professionisti che certifichi l'efficienza dell'impianto, che certifichi la riduzione dell'impatto in termini di CO2, che certifichi il rispetto della tassonomia, che certifichi anche il business plan dell'impianto stesso. Quindi noi sulla base di questa documentazione fair poi mettiamo a disposizione il finanziamento obiettivo sostenibilità a condizioni più vantaggiose, che poi possono essere ulteriormente vantaggiose con il passaggio degli anni, col passare degli anni, se si dimostra che l'impianto crea ulteriori risparmio di impatto di alide carbonico o comunque di efficientamento del sistema. Poi ci sono finanziamenti ad esempio sempre a tassi agevolati che riguardano la possibilità di avere la garanzia SACE green e questo è un aspetto molto importante perché avere la garanzia SACE implica per le banche un assorbimento di capitale zero e quindi anche questo avendo l'assorbimento zero ci dà la possibilità di concedere i finanziamenti a tassi ulteriormente agevolati. È chiaro che nel momento in cui la comunità energetica si organizza in comuni superiori ai 5.000 abitanti noi andiamo a finanziare il 100% dell'impianto. Nel caso in cui poi ci sia la possibilità di andare a finanziare comunità energetiche nell'ambito dei 5.000 abitanti e quindi la possibilità di avere dal PNRR il 40% di contributo a fondo perduto, beh ci affianchiamo ovviamente per la differenza su questo impianto. Normalmente il prosumer sono piccole e medie realtà artigianali, piccole società, piccole realtà che magari mettono a disposizione il capannone oppure fanno un impianto al fianco del capannone. Poi c'è il tema del ritorno alla comunità e molti imprenditori vedono anche nella comunità energetica la possibilità di utilizzare questo strumento anche come forma di welfare per i dipendenti, ad esempio abbiamo visto imprenditori che hanno messo le colonnine di ricarica elettriche nel parcheggio dell'azienda per i dipendenti e per la ricarica delle auto dei dipendenti. Quindi ci sono molteplici possibilità di intervento da parte della banca, date rappresentate che la banca è molto sensibile a questo proprio perché si è posto un obiettivo di una percentuale di finanziamenti molto alta green da erogare tutti gli anni. Poi c'è un tema che è legato ai comuni, quindi agli edifici pubblici e anche al terzo settore comprendendo ad esempio anche le chiese perché è un altro tema che parrocchie, chiese e comuni possono essere anche i promotori delle comunità energetiche e su quello stiamo costruendo dei finanziamenti dedicati proprio anche al terzo settore. Questo è il nostro impegno nei confronti delle comunità energetiche. Non so se ho risposto alla sua domanda. Assolutamente sì. Grazie. Grazie dell'intervento. Io ho voluto portare la testimonianza della finanza perché quando si muove la finanza vuol dire che la misura è particolarmente lungimirante diciamo così perché ovviamente attività che fanno del credito il loro core hanno tutta l'intenzione di mettere i capitali in attività a loro volta che abbiano un lungo respiro proprio perché devono essere sicuri anche del ritorno dell'investimento che hanno fatto. C'è però un istituto di credito un po' particolare che io ho voluto qui che è Banca Etica. Loro nascono come banca cooperativa 20 anni fa, 25 anni fa e hanno fatto, perché particolare? Perché loro hanno scelto di finanziare esclusivamente quelle proposte che producono impatti sociali e ambientali positivi. Cioè questa è proprio la ragione della loro attività e per questo motivo oltre a un soggetto importante che fa attività diciamo classica sul territorio andando a trovare anche forme per andare a finanziare queste nuove esigenze della transizione energetica di famiglie e imprese, ho voluto invitare anche Banca Etica nella persona del dottor Francesco Gentili che è responsabile delle relazioni istituzionali. Benvenuto anche a lei chiedo voi come vi siete organizzati per andare a finanziare quelli che sono le CER e gli strumenti di transizione energetica. Allora grazie, buongiorno a tutti, grazie per l'invito che abbiamo accettato con grande piacere. Banca Etica è una banca popolare, è una banca cooperativa e è una banca etica che nasce nel 1999, l'8 marzo, infatti abbiamo la scorsa settimana festeggiato grazie ai 25 anni di vita della banca e è una banca a tutti gli effetti che svolge le azioni che tutti gli istituti di credito svolgono, solo che ha, come diceva in precedenza, caratteristiche leggermente diverse, cioè oltre a valutare in fase di istruttoria la capacità del cliente a cui è stato concesso del credito, la sua capacità di restituire le risorse prestate, viene anche realizzata una valutazione di merito, di qualità e di destinazione di quegli impieghi, cioè viene valutato se quelle risorse verranno impiegate secondo dei fini che sono consoni e coincidono con gli obiettivi, lo statuto e i valori che Banca Etica conduce. Mi sento di dire che Banca Etica è impegnata sui temi della riduzione dell'impatto ambientale, dell'efficientamento energetico da tempi non sospetti, da prima che la normativa sulle comunità energetiche si sviluppasse e si delineasse con maggior chiarezza come è avvenuto negli scorsi mesi, perché come detto l'impegno di Banca Etica è quello di garantire e di impegnarsi solo in attività che abbiano un impatto sociale ed ambientale positivo. Questo viene garantito da una rendicontazione che viene, da una valutazione sociale e ambientale che viene prodotta ogni anno dalla banca e a differenza delle altre aziende Banca Etica fa una cosa, cioè valuta l'impatto ambientale e sociale generato non solo dalla singola azienda, cioè dalla singola banca, cioè l'impatto diretto generato dai propri uffici, dai propri dipendenti, dalle proprie attività, ma anche l'impatto indiretto, cioè quello generato dalle organizzazioni che beneficiano delle risorse che Banca Etica impiega. È un'attività importante, Banca Etica ha un ufficio dedicato a questo e è stato un impegno, devo dire, non da poco, ma insomma al quale noi teniamo molto. Banca Etica è una banca che è cresciuta molto nel corso degli ultimi anni, è come dicevo una banca cooperativa, una banca di cui fanno parte quasi 50.000 soci e come detto è impegnata sul tema dell'impatto ambientale e delle comunità energetiche da tempi non sospetti. Che cosa mi sento di dire, però su cosa mi sento di porre l'accento? Cioè sull'idea che le comunità energetiche per Banca Etica non sono solo uno strumento di riduzione dell'impatto energetico ambientale e non sono solo uno strumento di risparmio economico ed energetico. Secondo noi le comunità energetiche sono un splendido strumento di promozione, di rafforzamento dei legami sociali, oltre che quelli di riduzione dell'impatto ambientale ed economico. Visto che Banca Etica è una banca che nasce dal terzo settore per il terzo settore, Banca Etica si avvale del contatto, della relazione in essere con molte organizzazioni e reti di terzo settore per operare laddove le comunità già sono formate e laddove è più semplice investire, intervenire per installare, istituire, creare comunità energetiche. Lo fa grazie alla sua, come detto, rete di soci, fondatori, di soci, collaboratori, persone fisiche e giuridiche. Molti di questi sono grandi reti di terzo settore che si occupano di associazionismo di promozione sociale, di associazionismo sportivo, di promozione e tutela dell'ambiente. Lo fa con una ragione specifica che è quella di puntare a progetti che possano essere scalabili, replicabili su tutto il territorio nazionale, beneficiando della rete di Banca Etica che è presente praticamente in tutto il territorio nazionale e della rete di cui si compongono le organizzazioni socie, fondatori, fondatrici della Banca. Dalle più note, dalle ACLI, ARCI, dalle Gambiente, dalle organizzazioni sportive come la WISP fino al mondo cooperativo, perché come sappiamo quello della cooperazione è un mondo molto legato e molto interessato allo sviluppo e alla diffusione delle comunità energetiche. Che cosa fa Banca Etica in favore per promuovere, per sostenere l'attività delle comunità energetiche? Sostanzialmente offre tre strumenti a supporto. Il primo è quello legato all'anticipo sia degli studi di fattibilità sia dei contributi pubblici. Abbiamo citato giustamente le risorse del PNRR, in particolare relativamente ai comuni con meno di 5.000 abitanti. Banca Etica anticipa i contributi pubblici così come gli studi di fattibilità. Poi c'è l'apertura chiaramente di un conto dedicato che è necessario per la strutturazione di una comunità energetica e poi chiaramente c'è il mutuo sull'acquisto e l'installazione degli impianti. Questa è l'offerta che noi abbiamo messo in campo all'interno del nostro piano strategico, però mi sento di dire che puntiamo non tanto alla promozione sterile degli strumenti finanziari in favore delle comunità energetiche, quanto piuttosto alla creazione di relazione di alleanze con altre organizzazioni che si occupano e che hanno a cuore il tema delle comunità energetiche, anche perché è proprio nella natura di Banca Etica quella di operare in sinergia con altri soggetti. Mi sento di citarne alcuni brevemente provando a stare nei tempi. La prima, visto che siamo a Roma, è quella proprio con il Comune di Roma che come sapete ha intenzione, ha promosso la creazione delle famose 15 comunità energetiche, una per ogni municipio, in questo siamo in contatto con l'ufficio clima già da tempo del Comune di Roma e stiamo lavorando anche in qualche municipio per la creazione di comunità energetiche, in particolare con il coinvolgimento degli edifici pubblici e quindi una collaborazione fra banca, pubbliche amministrazioni, imprese e terzo settore, che è l'obiettivo a cui noi puntiamo. Quello di far sì che possa essere creata e possa svilupparsi una relazione di questo tipo con più soggetti provenienti da tre o se non più differenti mondi o settori. La seconda è quella con Ennostra, molti di voi probabilmente la conosceranno, Ennostra è un gestore energetico a tutti gli effetti in forma cooperativa al 100% rinnovabile. è una cooperativa nata grazie con insieme, ora questo stabiliamolo poi col tempo, insieme a Banca Etica, che Banca Etica sostiene e promuove e che fornisce non solo il servizio di energia ma anche il servizio di consulenza normativa legale e fiscale per la creazione di nuove comunità energetiche. Infine mi sento di citare due azioni che abbiamo condotto negli anni, due alleanze forti. La prima si chiama Respira, che è un progetto realizzato insieme a Lega Coop, a CoopFond ed Ecomil, una partnership proprio rivolta esclusivamente alle comunità energetiche in forma cooperativa, in cui il meccanismo è piuttosto semplice. Lega Coop fornisce la consulenza fiscale normativa e legale per la creazione di nuove comunità energetiche, banalmente la stesura di uno statuto per esempio. CoopFond finanzia a fondo perduto una parte degli studi di fattibilità, a CoopFond sapete che è uno dei fondi cooperativi che supportano le centrali cooperative, in questo caso l'Ega Coop. Ecomil che invece fornisce uno strumento di equity crowdfunding per il sostegno e per la partecipazione economica e finanziaria di tanti soggetti alla creazione e al finanziamento delle comunità energetiche. Banca Etica ovviamente fa il resto, ci mette la parte finanziaria anticipando e fornendo credito per l'avvio e lo sviluppo delle comunità energetiche. Altre due azioni non propriamente legate alle comunità energetiche ma che mi sento di citare perché appunto già abbiamo fatto riferimento in precedenza sono quelle realizzate insieme alle diocesi. Due progetti in particolare, il primo è quello che ha preso il nome di Frasole nel Sacro Convento di Assisi insieme a quello che poi è diventato il Cardinal Gambetti abbiamo realizzato un progetto di efficientamento energetico di tutto il Sacro Convento di Assisi che come sapete o comunque potete immaginare ha un impatto notevole vista anche la mole di Pellegrini che lo frequentano quotidianamente e annualmente e è stato efficientato tutto grazie a una collaborazione con il nostro e grazie al finanziamento di Banca Etica. Un'altra cosa che reputo interessante soprattutto per la sua capacità di essere replicato è il progetto realizzato con la diocesi di Lucca, il progetto Lucensis tramite cui stiamo lavorando per l'efficientamento di tutte le strutture e gli immobili presenti sulla diocesi di Lucca. In alcuni casi la collaborazione va nella direzione di realizzare, istituire, implementare o sviluppare delle comunità energetiche con la diocesi e con le organizzazioni di terzo settore che lavorano e che insistono su quel territorio. Crediamo, e ritorno a quanto detto in precedenza, però che per farlo sia fondamentale comprendere che le comunità energetiche non devono essere solo uno strumento di efficientamento energetico ma debbano essere uno strumento di promozione della socialità e della comunità, altrimenti rischiamo a nostro modo di vedere di produrre un semplice strumento che non avrà un grande futuro e non riuscirà ad attecchire all'interno delle comunità e dei territori. Grazie. Grazie a lei dottor Gentili. Tra l'altro il tema delle finalità sociali delle comunità energetiche è una delle tre dimensioni, quella ambientale, quella economica e quella sociale che sottende proprio la sostenibilità e sottende anche il lavoro del coordinamento delle comunità energetiche rinnovabili solidali che coinvolge, dove voi siete coinvolti in prima persona, che coinvolge comunità. Io se capisco come fermare il timer magari no e non mi va bene, mi tamerizzo da sola praticamente. Stavo dicendo che quindi insomma hanno fatto proprio del principio della solidarietà, degli utilizzi anche degli incentivi che vengono fatti una ragione fondante della loro attività. Allora per chiudere questo primo panel ho accanto qui un mio stimatissimo ex collega, ex ministro della giustizia Alfonso Bonafede che tornato alla vita civile come io amo sempre dire ha continuato l'attività del suo studio legale, l'attività del suo studio legale sulle comunità energetiche rinnovabili ha lavorato ovviamente su andare a individuare quella che era la forma giuridica migliore o le forme giuridiche migliori a secondo di quelle che sono le necessità della comunità energetica stessa. E quindi la domanda che faccio ad Alfonso è proprio questa, cioè nell'attività che voi state portando avanti come studio avete un modello tipo o più modelli o avete capito che la sartorialità della costruzione della forma giuridica è quella che apre maggiori opportunità per le imprese e i cittadini che ne fanno parte. Prego. Allora buongiorno a tutti, intanto ringrazio il senatore Trevisi, Roberta Lombardi per l'opportunità di essere qui e parlare di comunità energetiche rinnovabili e innanzitutto la risposta diciamo giusta e lo dico subito se arriviamo alla fine è la sartorialità della comunità energetica. In questo intervento che cercherò di far stare nel tempo di dieci minuti non farò una lezione di diritto, questo io lo specifico sempre, però ci tengo a rappresentare come andando ad analizzare un po' i tratti generali di quella che è la disciplina giuridica della comunità energetica rinnovabile venga fuori quali possibilità di espansione del mercato, dell'economia e in generale della nostra società ci siano dietro proprio l'applicazione della comunità energetica rinnovabile e d'altronde secondo me è questo il punto principale che noi dobbiamo cogliere, cioè già guardando questo tavolo c'è una sintesi di operatori dell'associazionismo, delle istituzioni, dell'economia, a livello anche di professioni, cioè che decidono di portare il loro punto di vista su un tema che in realtà di quei punti di vista cerca di essere un po' sintesi. Allora nella prima parte quindi la maggior parte delle slide vi chiederò di non leggerle perché proprio per dovere d'avvocato devo scrivere qual è la norma, però a noi interessa poco, mi interessa che arrivi il messaggio centrale della comunità energetica rinnovabile, come ha detto Roberta sono tornato al lavoro che amo che è quello dell'avvocato, però mi fa piacere far tesoro del bagaglio, credo che lo facciamo un po' tutti, del bagaglio di esperienza istituzionale per cercare di vedere come oltre l'applicazione delle norme, tra le righe di quelle norme, si possa cogliere quali sono gli elementi di sviluppo futuro. Allora, vabbè appunto parliamo di disciplina giuridica, le opportunità economiche, ambientali e sociali, da questo momento iniziano i miei dieci minuti. Guarda, volendo puoi evitare di girarti c'è anche il mondo. Sì, sì, ma mi torna meglio. Allora, che cos'è una CER, questa è la definizione che dà l'articolo 2 della direttiva da non leggere perché adesso ci arriveremo piano piano, quello che è importante ricordare è che, come accennava prima Roberta, l'obiettivo principale della comunità energetica è fornire benefici ambientali, economici o sociali piuttosto che profitti finanziari. E' quella sintesi di cui parlavamo prima, in cui il fatto che il profitto finanziario non debba essere prevalente non vuol dire che non ci siano delle possibilità di espansione economica importante. Allora, le principali fonti normative. Ci tengo a dirvi questo, allora c'è la direttiva 2018-2001, la RED2, che sostanzialmente è il punto di riferimento delle comunità energetiche rinnovabili a livello europeo. Questa direttiva nel momento in cui viene calata nell'ordinamento italiano diventa questo. Tutta una serie di norme attuative, prima parzialmente attuative, poi si arriva finalmente all'attuazione con il blocco finale, diciamo, è quello dell'ultimo mese, che è fondamentale sostanzialmente dal 24 gennaio, che è il decreto CER pubblicato dal MASE, e fino alle regole operative è il 23 febbraio. La prossima tappa è l'8 aprile. Il GSE aprirà i portali che daranno la possibilità di caricare i primi progetti di comunità energetica rinnovabile. Allora, ci tengo a dire che guardandolo plasticamente è evidente che l'ordinamento italiano poi ci mette un po' a recepire una disciplina che arrivava da una direttiva molto importante. Quello che ci tengo a dire è che poi in realtà, se noi consideriamo fisiologico un primo approccio di esperienza a una cosa nuova che sarà necessariamente sperimentale, ritengo che ci siano i presupposti per poi far funzionare le comunità energetiche rinnovabili. Quello che dicevo, le nuove opportunità, quindi appunto dalla struttura legale alla possibilità di accelerazione e espansione del mercato, quali soggetti possono far parte delle CER? Allora, qui c'è l'elenco indicato nella normativa, l'articolo 31 del decreto legislativo 199, a noi interessa ricordare un elemento, e cioè che le opportunità sono per tutti. Praticamente, salvo qualche eccezione, possono tutti partecipare alla comunità energetica. Memorizzate questo elemento perché ci servirà dopo per la seconda parte in cui cercheremo di trarre un po' di conclusioni rispetto a quello che stiamo dicendo. Però ecco, l'importante è che noi ci ricordiamo che è molto inclusiva e vale per tutti. Qual è la forma giuridica della comunità energetica? Cioè nel momento in cui io voglio, ho tutti gli elementi, ma voglio creare la comunità energetica, quale forma giuridica devo utilizzare? La risposta non c'è. Perché l'Unione Europea ci dice una cosa molto semplice, cioè ci dite fate le comunità energetiche, valutate voi qual è lo strumento in base al vostro ordinamento, ma fatele. Io però ti do qualche punto fermo che devi rispettare. E questi paletti, come li chiamo io, sono in realtà a tutela dei singoli membri della comunità energetica. Perché quello che non deve passare è che entrando in una comunità energetica io in qualche modo perda la mia forza di consumatore o di prosumer. invece proprio la direttiva dice scegliete la forma giuridica che volete, l'importante è che mi rispetti alcuni punti principali, cioè la soggettività giuridica autonoma, cioè deve essere un soggetto autonomo rispetto ai singoli soggetti che lo compongono, lo scopo principale l'abbiamo detto, deve essere garantita la partecipazione aperta e volontaria. ricordatevi anche questo, cioè la comunità energetica deve essere aperta a tutti i diritti dei singoli membri da garantire, la possibilità di recedere e la possibilità di scegliere il fornitore di energia. Ora, ci sono alcune leggende metropolitane sul punto, cioè sul discorso dell'accesso libero e del recesso, dicendo che la comunità energetica si può entrare e uscire quando si vuole. No, io da questo punto di vista ho creato questa slide che fa un po' di ironia sul punto, per dire che la CER non è un bar, cioè qui parliamo di investimenti che dovrebbero durare per circa 20 anni e su cui si basano investimenti importanti, finalità importanti, è chiaro che non è che si entra e si esce quando si vuole. La comunità energetica, diciamo la norma, dice semplicemente che tutti i clienti devono avere il diritto di partecipare mantenendo a contempo i loro diritti e i doveri, quello che dicevamo prima, senza essere soggetti a condizioni o procedure ingiustificate o discriminatorie. Cioè la norma dice semplicemente garantisci una facilità di accesso e non mettere criteri discriminatori, che è una cosa di assoluto buonsenso. Altro punto, questo lo superiamo, la facoltà di recesso. Possono recedere in ogni momento dalla configurazione di autoconsumo fermi restando eventuali corrispettivi concordati in caso di recesso anticipato per la partecipazione agli investimenti sostenuti che devono comunque risultare equi e proporzionati. Cioè la norma dice, è chiaro che se qualcuno vuole recedere e dargli questa possibilità, non creare delle penali che siano sproporzionate, stabilisci dei criteri equi e proporzionati. Quello che ci tengo a sottolineare è l'aspetto di come la comunità energetica tenga a tenere insieme tutti i protagonisti tutelando gli investimenti e i diritti di tutti. La vita giuridica di una CER, questo poi ovviamente la CER a quel punto comincia a vivere, quindi l'atto costitutivo, lo statuto, i vari contratti che deve stipulare, ci sono degli atti iniziali, qui lo supero, e vari adempimenti. Questo mi serve per farvi capire come non è che il rapporto economico con la CER si esaurisce nel momento in cui la CER nasce e parte. Lì è solo l'inizio. A quel punto la CER è un soggetto autonomo che sviluppa un'attività giuridica, sociale, ambientale ed economica e questo ci servirà per le conclusioni. E arriviamo proprio al punto, la probabile espansione del mercato a seguito delle comunità energetiche. Allora, innanzitutto ci sono gli incentivi e i contributi, alcuni sono stati accennati, non mi soffermo sul punto, è evidente che laddove ci sono incentivi e contributi, considerate anche che è prevista la soppressione dello scambio sul posto, eccetera. Insomma, la direzione per ora porta verso un'accelerazione del mercato proprio sul settore comunità energetiche. Qui sono le slide in cui vengono individuati appunto quali sono questi incentivi e questi contributi. La struttura aperta. Al suo interno non solo produttori o consumatori, ma anche consumatori. Cioè, noi dobbiamo ricordare che la comunità energetica ci dice che se io sono a casa mia e non ho la possibilità di montare un pannello, o di mettere un impianto, io posso tranquillamente unirmi ad un altro soggetto. Questo ci dice che c'è una possibilità di espansione della platea degli interlocutori, che è enorme, perché sostanzialmente se prima io parlavo soltanto con coloro che avevano interesse a portare avanti un impianto, per esempio fotovoltaico, ora invece io parlo con tutti. E ritorno a quel discorso che dicevamo prima, no? Tutti possono entrare nella comunità energetica. Questo è un fattore di espansione fondamentale anche alla luce di quello che diremo. Nuovo interesse degli enti locali. Cosa sta succedendo in questo momento? Ma già succede da mesi, me lo potranno confermare se il dottor Gentili o il dottor Mazzini, ma anche tutti gli altri. A livello locale ci sono amministratori, sindaci, assessori, che praticamente ogni giorno lanciano il progetto di una nuova comunità energetica rinnovabile. Perché? Perché ormai siamo in una fase nuova in cui i cittadini sono interessati, a prescindere dalla loro sensibilità ambientale o alle rinnovabili, dopo il rincaro delle bollette, dopo l'aumento dei costi, tutti i cittadini vogliono sapere come poter accedere alle rinnovabili. Gli amministratori locali percepiscono che sul territorio c'è una domanda e sentono l'esigenza di dare una risposta. E anche questo sarà un fattore importante. Qui purtroppo, ecco, adesso non si vede, c'è stato evidentemente un bug, però in quelle slide c'era un rapporto del 2023, in cui ci spiegava che ormai i dati dimostrano come sia irreversibile l'interesse di tutti i cittadini verso le energie rinnovabili. E tra l'altro, anche nel caso in cui i costi dell'energia tradizionale, chiamiamola così, dovessero diminuire, i cittadini non tornerebbero a quel sistema. E questo chiaramente è un altro fatto di espansione importante. La potenziale generazione di indotto nell'attività della comunità energetica. Quello che dicevamo prima. Nasce la comunità energetica. Ma poi questa comunità ha un'attività economica che interagisce con tutti i soggetti del settore. Poi c'è un'attività economica ancillare. Tre, quattro minuti e ho finito. Si sta allargando. Un'attività economica ancillare, cioè il discorso di poter mettere per esempio le colonnine. Cioè tutto questo chiaramente diventa un motore economico, ma ci tengo a dire non solo economico, anche sociale. Perché poi sulla comunità energetica c'è un'importante lotta alla povertà energetica. Adesso le regole operative, con la normativa anche precedente, pongono un tetto oltre il quale il beneficio che arriva deve essere rivolto a finalità sociali o comunque ai consumatori. Ultimo punto a cui si accennava, il rating ISG. Guardate che questa è una rivoluzione di cui già si parlava prima. Cioè le imprese, e torno a dire, a prescindere dalla loro sensibilità alle tematiche ambientali, avranno bisogno di dimostrare che hanno un rating ISG proprio per poter portare avanti la loro attività economica. E questo è un fattore di espansione fondamentale e la comunità energetica all'interno di quel sistema, mi fa piacere se hai intervenuto dopo, così c'è stata una testimonianza proprio in tal senso, dimostra che tutto il mondo imprenditoriale si rivolgerà a questo settore e si rivolgerà proprio per un'esigenza anche economica. Questi sono i dati che dimostrano, secondo il Politecnico di Milano, entro il 2025 le cerri italiane saranno circa 40.000. Considerate che allo stato attuale sono circa un centinaio in Italia, perché chiaramente si aspettava le regole operative, ma questo vi dà l'idea di quale prateria si sta aprendo per questo strumento così innovativo. Le tariffe incentivanti, secondo il Mase, potranno interessare 210.000 progetti con 2 milioni di aderenti. La criticità, quello che dicevo prima, la carica innovativa, la prima fase sperimentale, chiaramente c'è una difficoltà di inquadramento, per cui all'inizio, l'anno scorso, si pensava che si potesse creare uno statuto standard per tutte le comunità energetiche rinnovabili. Questo è stato un problema, perché alcuni comuni si sono dovuti fermare perché avevano pensato che fosse un po' troppo semplice, alcuni privati sono tornati indietro. Quello che dico io è semplice, cioè bisogna capire quali sono le esigenze, studiare qual è il percorso che si vuole fare, interloquire con i soggetti che lavorano in quel settore e creare appunto una comunità energetica che abbia una veste sattoriale, cucita addosso delle finalità che vuole raggiungere in base a quelle che sono le esigenze. D'altronde l'Unione Europea lascia assoluta libertà nella scelta del soggetto. Ho finito, questo è l'ultima slide, verso un nuovo modello socio-economico. Questa secondo me è una parte importante, perché noi non dobbiamo vedere questo orizzonte che sta già qui in questo incontro di oggi in compartimenti stagni. Noi ne dobbiamo cogliere la complessità e la profondità, perché questo è il vero momento innovativo. E allora, innanzitutto la comunità energetica porterà, una volta chiarito il quadro normativo, che è stato un po' laborioso nella sua formazione, però porterà gli imprenditori, soprattutto sul territorio, ad avere una maggiore autonomia rispetto alla burocrazia che di solito rende difficoltosa la loro attività. sentiranno l'esigenza di organizzarsi con altri soggetti della società civile, tecnici, informatici, avvocati, commercialisti, tutti i soggetti, perché si creeranno dei network per la creazione, ingegneri per carità, per la creazione delle comunità energetiche rinnovabili e addirittura ci potrà essere un'evoluzione verso un concetto di amministrazione condivisa, cioè quello che già è dentro la disciplina, già è dentro la direttiva, cioè quello in cui l'ente locale entra dentro la comunità energetica, non in una situazione sovraordinata rispetto ai cittadini, ma al pari dei cittadini. Guardate, questa è una prospettiva importantissima, in cui davvero c'è l'amministrazione e la società civile che tutti insieme condividono una parte di transizione energetica che è fondamentale, dal mio punto di vista al netto di tutte le valutazioni sui singoli settori è una prospettiva incredibilmente stimolante di cui possiamo essere lieti di far parte già a partire proprio da questo incontro di stamattina. Grazie per l'attenzione. Grazie, grazie Alfonso. Questi ex politici di cui anch'io faccio parte, che si allargano sui tempi, però... Ma perché ho approfittato di quanto avevano risparmiato gli altri. È vero, è vero, siamo perfettamente in orario. Io vi ringrazio davvero, vi invito ad alzarvi, così facciamo il cambio tavolo e invito i prossimi relatori a salire. Faccio anche... Prego, prego. Grazie. 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 Grazie a tutti. E' scritto il libro sulle cellule. Ecco, lui, le cellule esistono per colpa sua. È per colpa dell'assemblata il mio colpo. E lui ha fatto il da? Il colpo mio mi ha ostacolato e io ho girato lo stato. Noi ci vediamo, prendiamo un appuntamento, va bene? Prendiamo un appuntamento a prossimo settembre. Ecco, c'è stato un po' di trambusto per il cambio tavolo. Dunque, riprendiamo con questo secondo panel di interventi, siamo perfettamente in orario, questa cosa mi riempie di giubilo. Allora, il prossimo relatore che è stato chiamato a intervenire è l'ingegnere Giuseppe Milano, ingegnere urbanista e segretario generale di Green Accord Ollus. Dicevamo, ricordava anche Alfonso Bonafede, che l'evoluzione della normativa dalla prima norma europea rispetto all'applicazione pratica che concluderà il suo iter i primi di aprile con l'apertura del portale del GSE dove verranno caricate le progettualità legate alle CER ha visto un periodo congruo di tempo passare e questo ha fatto sì che però nel frattempo non ha impedito che nel frattempo alcune esperienze di CER italiane ma soprattutto e anche soprattutto europee potessero iniziare e l'ingegnere Milano ha proprio scritto un libro su questo tema andando a rappresentare questi esempi di CER già partite e rendendosi conto anche di un problema specifico legato alla pianificazione urbanistica delle città e quanto questa sia non perfettamente adatta a quella che è la pianificazione energetica nuova parliamo tanto di smart city, parliamo tanto di piano energetico, parliamo di PAESC, parliamo di patto dei sindaci ma anche gli strumenti pianificatori devono essere adeguati poi ad andare a rispondere a queste esigenze quindi prego ingegnere. Sì, salve, buongiorno, grazie dottoressa Lombardi per l'opportunità, grazie al senatore Trevisi per l'invito ecco, da urbanista che si occupa di questi temi della pianificazione territoriale da ormai una decina d'anni ho potuto verificare che nel nostro paese dove spesso a livello comunale, a livello locale abbiamo strumenti urbanistici vigenti particolarmente obsoleti spesso abbiamo piani regolatori che si trascinano da 20, 30, 40 anni quindi nell'assoluta difficoltà da parte dei consigli comunali di riformare questi strumenti di governanza del territorio pensate, molti di voi forse lo sapranno, che abbiamo la legge fondamentale dell'urbanistica la 1150 del 42 che ha ancora grandi tratti vigente che non si riescono a riformare gli strumenti del decreto ministeriale 1044 del 68 e così via e questo fa sì che di fatto oggi il governo del territorio non sia assolutamente coerente così come abbiamo ascoltato fino a pochi minuti fa alle sfide enormi, complessissime della contemporaneità che chiaramente sono soprattutto meteoclimatiche ed energetiche però ecco senza trascurare appunto la dimensione se vista economica, sociale e tutto ciò che può essere interconnesso e pensate, anche questo forse è considerazione ovvia ma giusto da richiamare che quando purtroppo intervengono fenomeni terribili come i terremoti spesso si va con una pianificazione d'emergenza che è una pianificazione che abdica spesso a quelli che sono gli strumenti vigenti, ordinari proprio perché non c'è nel nostro paese a tutti i livelli quella anche capacità di prevenzione e quindi come la prevenzione possa anche in corso d'opera attraverso una flessibilità che oggi non c'è nella pianificazione urbanistica andare incontro a quelle che sono le mutate esigenze delle nostre comunità che infatti oggi fanno una fatica enorme nonostante diciamo gli slogan e le buone intenzioni a essere effettivamente comunità educanti e comunità resilienti ecco quindi che da queste premesse ma anche soprattutto da quello che il mio percorso professionale che segue i temi dell'europrogettazione o comunque delle iniziative europee sul tema dell'adattamento ai cambiamenti climatici, delle energie sostenibili, delle energie pulite nasce circa sette mesi fa l'invito da parte di questa casa editrice piccola ma molto agguerita e appassionata che è Pacini editore di scrivere ecco questo libro sulle comunità energetiche che è il primo in assoluto in Italia alla luce del nuovo quadro normativo di riferimento e dove partendo naturalmente dall'analisi del contesto geopolitico che naturalmente è profondamente mutato dopo insomma le note vicende geopolitiche internazionali ha però come posso dire posto il suo accento, il suo focus su alcune cosiddette buone pratiche che non sono solo buone pratiche in Italia in corso di avvio perché molte esperienze come forse immaginate sono nate nel regime transitorio quindi insomma a partire dal 2021 quando con il decreto 199 si immaginava di poter avviare queste esperienze in raccordo alla cabina secondaria ma soprattutto nel libro anche appunto in virtù di esperienze fatte nel recente passato ho raccontato alcune esperienze fortemente innovative che sono realizzate quindi non in corso di realizzazione, già realizzate in Germania, Olanda e soprattutto Spagna proprio perché lì per esempio penso a ciò che stanno sperimentando, stanno adottando a Friburgo o a Damburgo in particolare il tema della pianificazione energetica è fortemente integrata al tema da un lato della pianificazione urbanistica e dall'altro a quella della previsione economica si parla proprio in questi termini di previsione economica ossia di quale generatività questi interventi devono avere sul territorio proprio per una crescita solidale e quindi ecco non solo diciamo dall'alto secondo magari ecco lo schema del top down ma anche bottom up questo fa sì che questa esperienza in Italia per quanto sicuramente in evoluzione perché come ha detto giustamente l'ex ministro Bonafede noi oggi abbiamo un centinaio di esperienze che potrebbero diventare migliaia almeno si spera ecco nel corso dei prossimi anni però ecco ci indicano una via, una via molto interessante e tra le tante esperienze che racconto mi ha particolarmente colpito a nette quelle di alcuni piccoli comuni cosiddette aree interne che sono beneficiari dei famosi 2,2 miliardi di euro associati a PNRR per esempio perché l'abbiamo anche citato prima con i responsabili degli istituti bancari il lavoro enorme che stanno facendo alcune imprese sia in Toscana che in Emilia Romagna che utilizzano l'istituto innovativo delle comunità energetiche per creare condizioni di welfare aziendale ed è particolarmente anche spidante sotto questo punto di vista questa esperienza perché non è soltanto l'idea per esempio per le realtà di un medesimo distretto produttivo di cooperare perché ne ravvedono chiaramente un beneficio economico perché ovviamente è legittimo e non dobbiamo far finta di non vedere che questa leva è certamente importante per innescare processi virtuosi ma come però il tema apparentemente secondario o banale della brand reputation si incontri, diciamo si tenga insieme all'idea di essere comunque soggetti credibili e autorevoli nel territorio in cui si opera e quindi come un potenziale beneficio economico possa rientrare attraverso l'engagement del territorio l'engagement delle persone che poi possono anche diventare clienti o consumatori di quelle esperienze produttive quindi questo è molto interessante perché fa sì che le imprese che oggi sono chiamate ad avere una responsabilità sociale che sono chiamate secondo anche una direttiva europea a non proliferare con il greenwashing il cosiddetto greenwashing ad assumere maggiore consapevolezza e di come possono anche loro in modo importante, mirabile diventare attori strategici del progresso del territorio in cui agiscono un'altra cosa che ho voluto tra anzi due focus che ho voluto richiamare in questo libro in questo lavoro che è soprattutto un tema che porta in essere il tema dell'innovazione culturale perché da ingegnere avrei potuto scrivere un saggio tecnico che però magari avrebbe limitato l'accessibilità e la sensibilità delle persone che invece sono i cosiddetti prosumer ma in generale le comunità parte attiva di questa conversione ecologica ecco quindi che ho scelto un linguaggio veramente accessibile proprio perché abbiamo bisogno di partecipare insieme a questa diciamo rivoluzione epocale che si apre ai nostri sguardi i due focus su cui diciamo poi ho voluto porre ulteriormente l'accento sono la povertà energetica che purtroppo come diceva il senatore in apertura è un tema che ci interroga tutti profondamente pensate a quante per esempio strutture di edilizia residenziale pubblica abbiamo nelle nostre città e che avrebbero bisogno di questa cura e non solo di questa premura se posso dirla così e come potrebbero essere particolarmente attivati coloro i quali vivono in questi involucri edilizzi ricordando che noi in Italia abbiamo 14 milioni di edifici e circa il 65-70% è stato costruito prima degli anni 70-80 quindi sono situazioni particolarmente non solo vituste ma energivore quindi anche su questo bisogna forse fare una considerazione rilanciando per esempio non solo interventi puntuali come il cosiddetto super bonus ma inserirli in una pianificazione energetica come diceva la dottoressa Lombardi che oggi invece è assente e che invece diventa sempre più strategica e l'altro grande tema che penso sia altrettanto essenziale in una dinamica di carbonizzazione da attivare in chiave locale è quello dell'agrivoltaico perché racconto anche attraverso la traduzione di alcuni studi molto evoluti non solo dell'Enea ma anche dell'Agenzia Europea dell'Ambiente quale è il contributo dell'agrivoltaico non solo rispetto al tema della comunità energetica ma quella di una cosiddetta democratizzazione dell'energia in cui quindi dove le singole realtà non sono diciamo meri esecutori di processi o comunque meri beneficiari di processi che possono avere una diversa genesi ma soprattutto ecco di essere anche attraverso il tema dell'agricoltura fattori di cambiamento perché sapete tutti benissimo quanto oggi il tema insomma dell'erosione dei suoli o comunque del degrado dei suoli in generale della gestione virtuosa dei suoli sia un tema altrettanto importante spesso diciamo trascurato nel nostro paese come sa il senatore Trevisi che non abbiamo ancora una legge che tuteli il suolo nel nostro paese nonostante sia dal governo Monti che si cerca faticosamente di avere una disposizione una discussione su questo una materia nuova è tant'è vero che a livello europeo noi abbiamo la norma una norma che favorisce l'acqua favorisce l'aria ma non abbiamo una norma che tuteli il suolo e quindi come le esperienze di agrivoltaico ci indicano attraverso una serie di indicatori perché poi il grande tema è anche quello del monitoraggio qualitativo di queste esperienze non solo quantitative come addirittura per determinate piantagioni l'agrivoltaico sia migliore dell'agricoltura tradizionale perché per esempio si ha un migliore stress idrico si ha per esempio una gestione più virtuosa non solo dei suoli ma anche attraverso l'ombreggiamento tanto per dirne una si crea un miglior microclima indoor che comunque consente all'operatore agricolo di svolgere serenamente la propria attività quindi ecco ho scelto di essere diciamo attivatore di questo processo anche culturale pur continuando a svolgere la mia attività di professionista perché credo fortemente che se si parla di comunità energetiche le comunità devono essere partattiva di questa conversione e chiudo ricordando Alex Langer grande ecologista del secolo scorso che diceva che noi non abbiamo bisogno di una conversione ecologica attenzione diceva di una conversione ecologica socialmente desiderabile è una cosa leggermente diversa ossia come dice l'antropologo Appadurai abbiamo bisogno di riattivare una capacità di aspirazione che produce il desiderio dei beni comuni e di una prosperità inclusiva nei territori se noi questo passaggio lo dimentichiamo rischiamo di stare qui tra un anno magari a commentare il flop delle comunità energetiche e vorrei evitare che questo accada grazie grazie a lei ingegnere vogliamo tutti evitare che questo accada anche perché insomma ci stiamo spendendo tempo passione attività competenze ognuno per cercare di costruire di essere quel tassello di quel puzzle che poi insomma cambi l'aspetto energetici legati alle nostre attività andiamo avanti con il prossimo intervento vi presento l'architetto ingegnere civile Fabiana Cambiaso collabora con l'assessorato al patrimonio del comune di Roma e ha scritto anche lei un libro sulle comunità energetiche rinnovabili dal punto di vista degli antilocali perché come ricordava anche la responsabile delle relazioni istituzionali di banca etica c'è una progettualità specifica legata agli interventi nei 15 municipi del comune di Roma proprio per la promozione delle comunità energetiche che vedono in convolto delle scuole ma anche un immobile di dirizia residenziale pubblica quindi le chiederei appunto di parlare dal punto di vista degli enti locali e di questa sperimentazione su Roma di come si sta realizzando concretamente il tema comunità energetiche sul nostro territorio Allora intanto buongiorno buongiorno a tutti ringrazio il senatore di avermi invitata a questo tavolo io sono architetto e sono ingegnere civile sono funzionario del comune di Roma e in questo particolare momento affianco l'assessore Zevi al patrimonio sulle tematiche energetiche su tutto quello che riguarda gli appalti in quanto sono sia consulente del consiglio superi dei lavori pubblici sia membro della commissione appalti dell'ordine degli ingegneri di Roma e ho scritto un libro sulle comunità energetiche in quanto il libro raccoglie tutti i miei studi fatti in tre master e un dottorato di ricerca sulle tematiche energetiche il mio punto di vista di oggi è quello del ruolo degli enti locali io vi ho preparato delle slide molto semplici in quanto quali sono le premesse perché Roma si sta muovendo sulle comunità energetiche rinnovabili innanzitutto Roma ha aggiornato il PAESC che ha adottato nel 2021 e aggiornato nel 2023 perché tra diciamo l'evoluzione della normativa dalla direttiva del 2018 fino all'approvazione del decreto del Mase entrato in vigore il 24 gennaio del 2024 ovviamente si parlava già di comunità energetiche rinnovabili pertanto Roma che nella prima versione del PAESC non aveva schede e azioni diciamo a favore della tutela dell'energia e del clima che potessero considerare anche questa forma di comunità sociale particolarmente esplicitata lo ha dovuto revisionare nel 2023 aggiungendo tra le proprie azioni lo sviluppo di quelle che poi sono diventate questa sorta di comunità aperta volontaria accessibile ai cittadini ma anche poi supportata dall'amministrazione stessa all'interno quali sono i punti chiave allora i punti chiave come hanno detto già i relatori precedenti sono questo contributo a fondo perduto fino al 40% dei costi ammissibili per le opere finanziate con il PNRR e la tariffa incentivante che comunque è fissa e si spalma per i 20 anni successivi e praticamente soprattutto possono essere sviluppati complessivamente 2 gigawatt di potenza cumulati alla tariffa per un totale di complessivi 5 gigawatt ovviamente per i comuni fino ai 5.000 abitanti Roma come capite diciamo bene non può rientrare in questo tipo di normativa avendo comunque un parco di abitanti di quasi 3 milioni di cittadini pertanto sono ravvisabili e necessarie altri tipi di ragionamenti altri tipi di procedure per poter arrivare a costituire quelle che poi sono le comunità energetiche io nel mio libro poi mi sono comunque divertita anche a voler dare a tracciare una linea comune che fosse diciamo di utilità anche a tutte le amministrazioni locali evidenziando che comunque proprio per il fatto di non poter accedere tutti i comuni ai fondi del PNRR ogni regione poi ha avuto modo di impegnare attraverso dei propri bandi ulteriori fondi per esempio la regione Veneto ha proposto un bando di un milione di euro dai fondi FESR la regione Sardegna di 10 milioni di euro attivati da fondi europei la stessa regione Lazio due anni fa ha emanato un bando per il sostegno ai progetti di fattibilità tecnico-economica per poterli ripagare fino a un milione di euro qualche dato sulle comunità allora ad oggi si parla di 85 realtà di autoconsumo collettivo 61 gruppi di autoconsumo e 24 comunità di energia ci sono in corso 293 progetti con 513 manifestazioni di interesse in particolare in Lombardia 311 richieste di finanziamento e 141 progetti presenti in Emilia Romagna c'è una piattaforma europea che si chiama l'Energy Communities Repositori che praticamente sostiene e segue l'attivarsi delle comunità energetiche e praticamente adotta una sorta di monitoreaggio anche dei flussi energetici che sviluppano le stesse io nel mio libro ho cercato di studiare la normativa anche dal punto di vista degli altri paesi europei arrivando ad evidenziare come vedete uno sviluppo di 5.000 comunità energetiche in Germania già ben prima del decreto che sancisse proprio la comunità energetica rinnovabile fino a tipo al di sotto delle 100 in Italia con uno schema in cui ho evidenziato quali potessero essere le forme di aggregazione e di costituzione oltre che di finanziamento attivate anche negli altri paesi e praticamente abbiamo diciamo avuto come risultati che la figura della pubblica amministrazione delle amministrazioni locali è in realtà molto preponderante per lo sviluppo della comunità energetica non solo a livello di potenziale fautore di quelle che poi sono le share ma anche come finanziatore ad eccetto della Germania che ha questo diciamo un uso molto preponderante dei finanziamenti bancari e altro diciamo elemento su cui è stato utile ragionare è stato anche il ruolo delle utilities che come sapete dalla normativa possono supportare le comunità energetiche ma non possono esserne membro in quanto comunque la loro attività commerciale principale appunto rispecchia il carattere commerciale sulla materia energetica e questi utility hanno un ruolo fondamentale soprattutto in Francia e in Spagna dove hanno creato delle vere e proprie comunità energetiche non solo dal punto di vista del finanziamento ma anche dal punto di vista della gestione ovviamente le tecnologie che sono comunque che hanno formato le cerre in Europa sono diverse a secondo delle capacità comunque delle fonti rinnovabili specifiche del proprio paese per esempio in Danimarca è molto usato il teleriscaldamento nei paesi del nord Europa anche soprattutto quelli costieri come l'Olanda l'eolico pertanto non tutte le fonti rinnovabili sono usate in maniera uniforme nei paesi europei perché un ente locale può essere interessato a una cerre abbiamo detto che comunque c'è un riscontro in termini di benessere ambientale di benefici economici ma anche di benefici sociali e queste tre componenti devono interfacciarsi tra di loro ovviamente l'ente locale soprattutto anche nel caso del comune di Roma ha come diciamo obiettivo anche fondamentale quella che poi è la valorizzazione del territorio che è una valorizzazione sulla sostenibilità del territorio non solo in termini ambientali tecnologici ma proprio soprattutto in termini sociali cioè garantire ai cittadini un sostentamento al loro benessere di vita pertanto cosa può fare un ente locale l'ente locale può mettere a disposizione i propri spazi e come può farlo può farlo a titolo gratuito attraverso se la comunità energetica ha un ruolo esclusivamente sociale o può farlo attraverso il ritorno di un canone diciamo di prestazione energetica quindi con un pagamento ecco nei confronti dell'amministrazione quindi a titolo oneroso per dar vita a ciò viene pubblicato un avviso pubblico cioè la cosiddetta manifestazione di interesse nel libro io ho cercato di codificare anche di dare una sorta di linea guida a questa manifestazione di interesse affinché gli enti pubblici e le amministrazioni potessero avere una sorta di roadmap attraverso la quale muoversi ma l'ente locale può partecipare direttamente ad una share con una quota sociale o di investimento può apporre un sostegno sia diretto che indiretto attraverso una quota di un comodato d'uso degli immobili che fanno parte del parco edilizio immobiliare proprio dell'amministrazione o attraverso un sostegno esterno ovviamente laddove decidesse di farlo come socio deve ricorrere a un'approvazione di delibera perché c'è un impegno finanziario economico che coinvolge appunto i fondi pubblici i fondi di pubblico bilancio qual è stata l'esperienza di Roma l'esperienza di Roma è stata questa nel 2022 è stata pubblicata una delibera la 402 da parte del gabinetto del sindaco Gualtieri che ha impegnato l'amministrazione a promuovere queste comunità energetiche rinnovabili non solamente attraverso il caso pilota delle 15 scuole da attivarsi in uno ciascuno dei municipi di Roma ma anche attraverso l'utilizzo di quelli che sono immobili propriamente destinati tendenzialmente a servizi pubblici locali come per esempio mercati come per esempio i parcheggi come per esempio appunto le scuole locali che possano mettere a disposizione i loro tetti o parte diciamo della loro riqualificazione energetica per poter poi condividere quel tipo di energia a servizio della collettività per questo diciamo successivamente alla delibera sono state Roma è stata suddivisa in mappe ciascuna mappa contiene una delle cabine primarie perché sapete che comunque la diciamo una dei punti della legge è il diciamo il sottendere la comunità energetica ad una cabina di energia primaria e innanzitutto è stato recepito il comma l'articolo 7 bis del decreto legislativo del 2011 che ha portato a un cambiamento in quanto è stata fatta rientrare l'energificazione del patrimonio pubblico con la posizione di pannelli fotovoltaici nella manutenzione ordinaria soprattutto per non dover ottenere comunque le rispettive autorizzazioni che allungherebbero di molto leader amministrativo nella pubblica amministrazione ma soprattutto perché il fatto che sia manutenzione ordinaria permette all'ente pubblico di poter utilizzare quei fondi sul titolo primo e quindi sulla spesa corrente e da avere un impegno fondi entro l'anno in cui vengono stanziati i relativi fondi economici allo stesso modo sono stati impegnati nel bilancio del 2023 i fondi per l'informazione alla cittadinanza questa diciamo è stata una cosa molto importante perché già diversi municipi hanno istituito al loro interno gli sportelli dedicati alle comunità energetiche rinnovabili ed hanno lanciato delle manifestazioni di interesse per degli operatori che siano attivi sul territorio per informare i cittadini e per spiegare a loro i benefici non solo sociali ma anche economici e ambientali che possano derivare dall'utilizzo delle cerra Roma ha al momento un progetto molto importante che è il progetto del parco solare Le Torri all'interno del municipio Sesto che è quello di Torbella Monaca che è un territorio molto difficile è un progetto molto interessante perché è un progetto esteso non è solamente parte come utilizzo del tetto di una scuola ma in realtà si allarga sugli edifici limitrofi a questa scuola e attraverso il canone della prestazione energetica l'amministrazione ripaga i cittadini in debolezza finanziaria attraverso dei voucher con cui potersi ripagare le bollette allo stesso modo è interessante il caso dell'Università di Roma 3 che ha stipulato attraverso un patto di collaborazione con il municipio ottavo di Roma la messa a disposizione dei tetti dei propri immobili universitari in partenariato con altri immobili del municipio i cui proventi dalla produzione energetica verranno destinati ad attività sociali all'interno del municipio io ho riassunto brevemente diciamo lo strumento principe con cui si sta muovendo il comune di Roma che è quello del partenariato pubblico privato perché innanzitutto perché nel nuovo codice degli appalti è su promozione del privato per cui noi stiamo ricevendo moltissime manifestazioni da parte di aziende importanti o anche associazioni temporanee di studi professionali che si occupano di energia e che ci manifestano la volontà di poter contribuire sull'utilizzo di edifici pubblici a quella che sono le creazioni delle comunità energetiche per cui attraverso un semplice procedimento che è quello della presentazione dell'analisi di fattibilità tecnico-economica con il ricepimento da parte dell'ente pubblico attraverso una delibera un inserimento nella programmazione triennale e una messa a gara poi successivamente del progetto e un avvio di un rapporto di concessione che permetta poi al comune di ripagarsi attraverso un canone di prestazione di 20 o 30 anni quelli che poi possono essere sostentamenti energetici da adoperare per la collettività in questo caso il comune di Roma attraverso questi contratti di prestazione energetica che sono disciplinati dall'articolo 200 attraverso questo contributo ha deciso di erogare tutta la parte il quantitativo di energia che viene autoconsumata virtualmente e che permette un profitto al comune di investirlo su attività sociali del territorio quindi su servizi pubblici su spazi di co-working accessibili attraverso delle social card su spazi che possano promuovere l'inserimento dei giovani o dei cittadini che hanno perso il lavoro nel mondo del lavoro insomma di riattivare non solo dal punto di vista sociale ma anche un po' economico quello che poi è il testuto urbano fondamentale di una qualsiasi città grazie grazie a lei ingegnere per la rappresentazione di tutto il lavoro che ferve sul territorio di Roma andiamo avanti con il prossimo intervento e devo dire la prossima ospite è una persona proprio con cui mio obiettivo quando sono grande quando diventerò grande voglio essere come lei e quindi è proprio un piacere personale presentarla Federica Rossi Gasparrini che è la presidente nazionale di FederCasaling oltre a varie altre cose e con lei quando ero assessore abbiamo iniziato un lavoro sempre legato allo sviluppo delle comunità energetiche attraverso diciamo le loro istituzioni le associazioni collegate anche a FederCasaling ma soprattutto avevamo una progettualità insieme della liberare le abitazioni dal pericolo del gas pericolo ambientale e pericolo anche legato alla sicurezza delle abitazioni è bello che ci vediamo oggi perché ieri è stata approvata la direttiva case green che è un importante passo avanti proprio verso l'elettrificazione dei consumi verso la sostenibilità delle nostre abitazioni e quindi anticipando tutta una serie di tematiche su cui abbiamo lavorato insieme quindi Federica io ti chiedo come sta procedendo il lavoro sulle comunità energetiche rinnovabili e legato soprattutto come dicevamo alla messa in sicurezza delle abitazioni intanto prima ringrazio l'amico Tony per l'invito e ringrazio Roberta ed è vero con lei abbiamo iniziato a trovare un ascolto sul tema della sicurezza dell'abitazione che è roba di tutti dell'abitazione rispetto al gas vengo dopo su questo tema subito prima voglio dire che ho ascoltato cose importanti va ringraziata l'Europa va ringraziata caldamente perché comunque si lavori stiamo dibattendo stiamo parlando dappertutto in ogni parte del nostro paese e di tutta l'Europa di ambiente e lo dico da geologa è vero che questo problema dell'ambiente esiste ed è ormai a un punto su cui abbiamo un punto di domanda ce la faremo proviamo ma quello che questa mattina ho ascoltato mi ha fatto fare più riflessione la prima io sono il popolo io rappresento il popolo qua quello che non riceve un euro di finanziamento per avere informazione l'informazione sulla comunità passa tutto attraverso ciò che è istituzionale e che già ha permesso che noi siamo arrivati a questo punto ma la popolazione ha difficoltà grande ad avere informazioni perché mancano le risorse economiche al popolo non al potere io sono donna che è stata di potere ma proprio per questo soffro vedendo la differenza che esiste e anche l'Europa ha fatto leggi ha fatto norme ha detto agli stati membri informate ma informare vuol dire anche sostenere convintamente le forze del territorio in questo momento non c'è in Italia questa realtà ma aggiungo parlo perché in questo momento come associazione noi stiamo creando le comunità energetiche siamo partiti prima da Roma due comunità energetiche e abbiamo trovato il finanziamento per cui entro due mesi inizieremo a pennellare le case di queste due di queste due di queste due realtà quasi gratuitamente la comunità è costituita in due territori molto vivaci uno si chiama Casalpalocco è noto l'altra comunità è infermetto quindi sono sud di Roma avevamo trovato anche il terreno per costruire ma in questo momento stiamo variando dopo le norme nuove e stiamo andando verso il concetto di lavorare con le famiglie con i loro tetti vediamo però siamo il 4 di aprile c'è la riunione deliberativa però sui piccoli comuni le difficoltà ci sono noi stiamo costruendo pensiamo almeno 300 in realtà nei piccoli comuni di cui 25 sono già individuati in alcune regioni dalla Sicilia alla Liguria a Piemonte Lombardia è un lavoro duro e sono state dette cose molto belle ma c'è una grande distanza Roberta perché non ci sei tu di mezzo a mediare c'è una grande distanza tra la popolazione che vuole credere e capire la parola più difficile è credere e ha ragione e ha ragione perché sotto certi aspetti le norme italiane tagliano le gambe alla CER le tagliano al di là del 40% del 10% le tagliano però noi combattiamo lo stesso e la battaglia prima è proprio la sicurezza delle abitazioni vorrei parlare come rappresentante INAI sono presidente di un comitato amministratore per le abitazioni per la sicurezza delle abitazioni parto dalle case popolari 4% delle abitazioni italiane sono case popolari la definizione data è inadeguate incredibili inaccettabili e noi andiamo a lavorare sull'innovazione tecnologica e l'innovazione abitativa e non guardiamo alle popolari alle case popolari dove vivono circa 2 milioni e mezzo di cittadini in più abbiamo 1.200 comuni in Italia non metanizzati qual è l'assurdo che ci sono gli stanziamenti economici per metanizzare 1.200 piccoli comuni non vergognandosi di questa progettazione ci dobbiamo vergognare quei soldi per la metanizzazione dei piccoli comuni vanno investiti in pannelli solari vanno investiti in centrali fotovoltaiche o altro di rinnovabile perché quello che un paese europeo osi mettere in bilancio soldi per la metanizzazione oggi è una vergogna e io al senatore lo dico chiaro l'ho già detto però lo dico ancora più forte perché è un assurdo ci vuole una battaglia e concludendo il discorso della sicurezza delle abitazioni voi sapete che siamo il paese europeo più numericamente rappresentativo delle cucine dove si cucina col piano cottura a gas il piano cottura a gas è pericoloso fa male induce malattie nei bambini ma l'Italia ha la bandiera ad essere il paese più innovativo e non sono riuscita sono riuscita in qualche piccola cosa ma adesso cercheremo di lottare con più forza a finanziare di più le famiglie che sostituiscono i piani cottura a gas con il piano cottura elettrico e induzione che sostituiscono le caldaie a gas con le caldaie via via il gas dalle case cosa parliamo di grande innovazione tecnologica ci facciamo ridere siamo comici noi parliamo di innovazione e lasciamo le bombole nelle case però facciamo una cosa molto carina quando succedono gli incidenti e crollano gli edifici crollano le abitazioni una una settimana fa ancora danneggiando anche le abitazioni vicine noi non lo diciamo stiamo zitti lo dice il giornalino locale ma la stampa no perché fa male parlare male del gas mi domando quindi la battaglia che voglio dirvi e so di avere un'alleata là e un alleato qua è quella per la sicurezza delle abitazioni ok all'innovazione tecnologica ci sono devo dire grazie alle imprese che stanno lavorando per portare innovazione ma prima di tutto la cultura della sicurezza delle abitazioni via il gas dalle abitazioni sia i pannelli sia gli impianti sia tutto ma via e pensiamo che abbiamo la la viltà di offrire case popolari indecorose ai cittadini poveri ecco che la riflessione che c'è in questo momento che è una riflessione grande molto bella molto piacevole sia anche calata nella realtà io mi sento popolo sono contenta per la cultura che sta crescendo su questo tema sono scontenta per l'esclusione dei cittadini dal dibattito sono esclusi perché non vi si danno gli strumenti per essere inclusi vi ringrazio grazie Federica notare anche che è stata perfettamente di dieci minuti capito perché io voglio diventare come questa donna da grande per essere sempre così precisa nei propri interventi allora l'ultimo intervento che chiuderà è sempre di una persona insomma con cui oltre rapporto di collaborazione professionale in questi anni c'è stato anche un rapporto di lavoro sul tema ed è Dario Tamburrano già europarlamentare europeo due volte identificato tra l'osservatorio indipendente europeo vote to watch come tra i cinque eurodeputati più influenzi sui temi delle energie sui temi energetici estensore della norma delle comunità energetiche che abbiamo citato tutti ecco lui è la persona che materialmente l'ha scritta così come è stato l'estensore il coordinatore del PAESC altro documento abbondante di PAESC di Roma abbondantemente citato ed è attualmente policy advisor appunto sui temi dell'energia a Dario io chiederei nonostante con tanta presentazione stando sempre nei dieci minuti di raccontarci brevemente come sono nate le comunità energetiche in Europa e come vedi il processo in Italia anche attraverso l'implementazione dei PAESC e soprattutto quali sono le prospettive future europee sui temi della politica energetica cosa ci aspetta nel prossimo quinquennio cercherò di essere sintetico e di dare comunque degli spunti sperando di avere tante più occasioni come questa per portare anche diciamo delle informazioni onorevoli ascoltatori ci sono gli onorevoli da una parte ma ci sono anche gli onorevoli ascoltatori ed è la parte più importante come sono nate in Europa sono nate diversi anni fa ma facendo un passo indietro le comunità energetiche rinnovabili non sono una novità fanno parte di un ritaggio storico-culturale dell'umanità intera perché gli stessi ucci civici di alcuni possedimenti come i boschi per la raccolta di legna ai fini dell'iscaldamento delle case è una cosa vecchia di secoli forse di millenni come era normale usare i forni comunitari o molini comunitari alimentati dal vento o dallo scorre delle acque quindi da diciamo da forme di energia rinnovabile e siamo noi che a volte perdiamo un po' la direzione e diciamo con l'avvento della rivoluzione industriale e quindi con l'utilizzo di forme di energia non più muscolare non più rinnovabile ma con forme di energia fossile abbiamo ci siamo formati siamo cresciuti con l'idea di un unico modello possibile che fosse quello della produzione energetica centralizzata e fondamentalmente basata su vettori ad alta densità energetica o forme di energia ad alta densità energetica come il petrolio il gas e il carbone con tutte poi le conseguenze che hanno alcuni vettori ad alta densità energetica perché tendono comunque anche a esplodere oltre che a creare tutta un'altra serie di problemi e tornando alla questione più prettamente diciamo che ci riguarda la norma europea le comunità energetiche rinnovabili in Europa sono nate da delle eliti condominali e quindi questa è un po' una relazione positiva di che cosa significa trovare degli ostacoli anche una persona che prima e tuttora in parte fa il dentista trovare degli ostacoli nella informazione delle persone comuni trovare degli ostacoli normativi e lottare per superare questi ostacoli per andare oltre quindi a volte gli ostacoli sono al miglioro sprone per riuscire a superarli e per arrivare poi comunque ad innovare la lite condominiale era quella di Dario con il suo condominio perché lui voleva mettere i pannelli sul tetto e non glielo facevano mettere poi è diventato parlamentare europeo e ha scritto la norma per metterli sui tetti di tutti sì diciamo che la cosa buffa che io dico sempre e che indica il fatto che c'è molto molto da lavorare sul concetto non solo di comunità energetiche ma anche di beni comuni in questo caso energia bene comune è un discorso più che giuridico giuridico sicuramente importante c'è molto da lavorare sul ricevimento che non è proprio eccezionale e c'è molto da lavorare sul discorso dell'informazione perché io dico sempre che sono riuscito a convincere più di 750 colleghi in assemblea a Strasburgo e 28 stati membri perché ai tempi c'era anche la Gran Bretagna che è stata anche un aiuto tra l'altro i laboristi e non sono riuscito ancora a fare una comunità energica rinnovabile nel mio condominio perché io sono tornato e ho detto eh mi ho fregato non mi avete fatto mettere il pannello sopra il tetto ho fatto la norma europea e qui mi ho detto no ma ci sta il nucleare di piccola generazione ma poi queste cose qua sono un po' naif queste cose strane e quindi praticamente cioè dopo aver fatto tutto un giro e sono ritornato almeno per quanto mi riguarda al punto di partenza per fortuna che ci sta qualcuno che è un po' più avanti del mio piccolo condominio e comunque si sta comunque tanto da fare perché insomma altrimenti era quasi da psichiatra questa questa storia qui e non è stato facile chiaramente perché il modello il principio con cui è nata l'idea di comunità energetica e rinnovabile è una parte di un processo di transizione energetica e bisogna cominciare a considerare veramente l'energia come in realtà è come un asset quasi metafisico perché è un genere e sono elettroni che si spostano anche nel caso dell'energia fossile che quindi sono un'entità immateriale che però causano degli effetti molto evidenti l'energia è alla base della capacità di svolgere un lavoro che sia un lavoro di trasformazione che sia comunque un movimento che sia un lavoro di conservazione del cibo che sia un lavoro di qualsiasi altro tipo quindi abbiamo a che fare con un concetto l'energia che è una via di mezzo tra chiamiamolo lo spirituale e il materiale allora non voglio andare a fare diciamo un intervento filosofico però a volte anche la filosofia aiuta a capire meglio le cose e ad agire di conseguenza e essendo comunque un asset fisico reale misurabile è un sistema di produzione e conservazione del valore quindi è inevitabilmente necessario che venga considerato un bene comune perché è la base di qualsiasi cosa nel momento in cui nelle mani dei monopoli questo è chiaramente un problema di democrazia di libertà di democrazia di libertà a livello nazionale a livello europeo a livello geopolitico e quindi per tornare al discorso del tema di oggi e alle comunità energetiche rinnovabili la storia delle comunità energetiche rinnovabili nacque con un report di iniziativa parlamentare che venne votato nel 2016 a Strasburgo e vi erano due questioni sul tavolo in quella diciamo chiamiamola un plenaria un po' storica dove non c'era un provvento ma c'era una volontà del Parlamento affinché la Commissione europea legisperò legiferasse in quella direzione e c'era la richiesta di una definizione operativa di prosumer e c'era la richiesta di considerare l'energia soprattutto rinnovabile come un bene comune europeo e la prima richiesta passò dopodiché poi ci fu la proposta direttiva rinnovabile e tutta una serie insomma di cose un po' più note e la seconda richiesta non passò per 47 voti su 650 cioè c'eravamo quasi e come eravamo riusciti io scrisse l'emendamento riuscì a convincere più di 100 deputati perché erano tutti afferenti a un intergruppo parlamentare che comprendeva tutti i gruppi del Parlamento che si chiamava era un intergruppo dei beni comuni e dei servizi pubblici quindi diciamo una piccola lobby buona all'interno del Parlamento che portava avanti determinate istanze perché così si riesce poi a lavorare a far passare le cose in Parlamento a volte come le comunità energetiche riconabili e a volte si cominciano a creare a gettare i semini per provarci le volte successive vabbè ancora un po' di tempo bene tutte queste cose ho avuto l'onore poi di riportarle nei falci di Roma dovremmo essere orgogliosi di essere chi di noi lo è o comunque frequenta Roma il falci di Roma in virtù del fatto che io ebbi l'onore fresco di legislatura europea di estenderlo prima ancora che la stessa Commissione europea riformasse il patto dei sindaci io ebbi diciamo l'idea che poi si è risultata vincente di scriverlo basandomi non sul vecchio patto dell'obiettivo al 40% ma sul nuovo obiettivo del Green Deal al 55% prendendo in considerazione tutte le normative non ancora recepite in Italia e vincrese alla direttiva rinnovabili la direttiva mercato elettrico e tutte le cose che già erano in qualche maniera preparatorie al Green Deal strategia dell'idrogeno integrazione del sistema energetico elettrificazione quindi il pancin di Roma è stato costruito su queste linee e infatti nel capitolo sulle energie rinnovabili nel paragrafo 8 3 1 e 2 si parla di comunità energetiche rinnovabili comunità energetiche rinnovabili capitoline come cluster di singole comunità energetiche locali e anche di un sistema che ora possiamo chiamare comunità energetiche rinnovabili solidali che l'utilizzo degli incentivi pubblici per effettare un decoupling delle risorse pubbliche ovvero l'incentivo destinato a un fondo controllato con dei token in blockchain da parte della popolazione per decidere l'utilizzo degli incentivi stessi che venivano in qualche maniera messi in un fondo a parte diciamo su garanzia del tutelare di Roma questo è scritto nero su bianco in un piano di una città italiana che poi succede sempre che noi facciamo le cose in ritardo però poi siamo anche quelli che facciamo le cose prima di tutto il resto d'Europa e sono molto molto contento che il sindaco quartiere e l'amministrazione abbia continuato a portare avanti la promessa in campagna elettorale una promessa è stata mantenuta qualche altra insomma non siamo altrettanto contenti ma questa bisogna riconoscere che stanno lavorando bene e comunque con impegno e ho detto ecco il ricevimento del decreto io che non solo diciamo ho ispirato la norma ma poi fortunatamente sono riuscito a coinvolgere la maggioranza del Parlamento le cose non si fanno da soli né qui né in Europa perché altrimenti poi il voto devi riuscire a coinvolgere gli altri e so qual è il principio di ispirazione della norma e devo dire che al di là di quello che c'è scritto ma anche rapporto a quello che è scritto in direttiva rinnovabili e nel ricevimento come le leggi delegazione europea questo decreto attuativo insomma non ci siamo proprio sembrerebbe un pochino diciamo rende le cose molto complicate mentre la norma è semplice il primo principio che il legislatore deve eseguire è quella della best legislation e mi sembra che bisogna se nel momento in cui c'è bisogno di un avvocato o di un super esperto nel poter mettere in campo determinate disposizioni vuol dire che qualcosa non sta funzionando e vorrevo segnalare in primis il limite dei 5.000 abitanti per comunità energetiche che si realizzano solo le comunità energetiche per impianti presenti in comuni sotto i 5.000 abitanti e questa è una cosa che a mio parere non sta né in cielo né in terra e abbiamo preparato una interrogazione alla Commissione europea in merito a questa questione ma non perché chi l'ha preparata il sottoscritto e chi poi comunque l'ha portata avanti il Commissione europeo i miei ex colleghi al Parlamento europeo abbiano qualcosa contro i piccoli comuni ci mancherebbe ma ci sono una serie di questioni uno nella direttiva rinnovabile i famosi paletti di cui si parlava il nostro caro ex Ministro della Giustizia quelli li ha messi un italiano perché gli italiani sanno poi cosa succede a livello nazionale quando arrivano le norme e quindi per evitare di fare carne da macello alcuni dei tanti paletti come l'obbico delle mappe per i distributori come il principio di non discriminazione tra comunità energetiche in caso di incentivi pubblici ci stanno e la limite dei 5.000 abitanti è un limite estremamente discriminatorio in questo caso non discriminatorio come inizialmente previsto tra comunità energetiche e utilities tradizionali ma è discriminatorio tra comunità energetiche e gruppi di rinnovabili che vivono in comuni differenti quindi è discriminatorio nel maggio 2021 maggio 2021 nel momento in cui io ho l'occasione di leggere la bozza del PNRR io vi di questa questione segnalai tramite i miei contatti ex colleghi ex collaboratori e funzionari in Commissione Europea questa potenziale diciamo violazione del principio di non discriminazione tant'è e questo va un po' a valorare un po' la mia opinione che la Commissione Europea cambiò la bozza del PNRR e inserì una parola che è in particolare sotto i comuni nei comuni sotto i 5.000 abitanti anche a significare che vanno magari aiutati di più ma che non è una norma e il beneficio di 2 miliardi di euro non è diretto esclusivamente ai comuni sotto i 5.000 abitanti eppure il decreto di fatto è questo prevede nonostante la parola in particolare nello stesso decreto comunque sia presente perché fa riferimento al PNRR vigente e questa è una cosa che è poco nota che comunque andrebbe chiarita anche in virtù del fatto che c'è poco tempo per spenderlo quindi una soluzione sarebbe quella di il primo anno per i comuni sotto i 5.000 abitanti si fa un monitoraggio della capacità di spesa dei piccoli comuni italiani o comunque dei gruppi di self-consumer o comunità energetiche e poi si valuta come se estenderla anche in virtù del fatto che nelle grandi città c'è un problema nel reperire spazi per la produzione rinnovabile di proprietà del singolo e la norma è nata per quello è nata per andare incontro ai condomini delle grandi città che sono il buco nero dei consumi energetici presidenziali e non dell'Italia per chiudere se ho ancora due minuti una prospettiva rapidissima su le norme che sono già approvate e su quello che avverrà o che si suppone che avverrà prossimamente alcuni limiti della norma italiana io mi ripropo di un anno ho messo alcuni paletti perché insomma non si è uniscente non si può riuscire sempre a fare colla e sono superati la riforma del mercato elettrico che nella sua veste definitiva verrà votata a marzo o ad aprile in plenaria e abbiamo qui avanti ah ce l'ho qui domando sarò veloce e questa norma prevede il superamento in parte delle comunità energetiche perché si sancisce a livello europeo il nuovo diritto alla condivisione dell'energia per tutti cioè questo è un nuovo diritto UE che ogni cittadino o meglio cliente attivo ha il diritto di scambiare l'energia e quindi sebbene quell'emendamento non passò in plenaria il principio si va facendo strada anche se a distanza di anni speriamo che queste norme che dovrebbero essere recipite queste specificatamente 24 mesi entro l'approvazione e dentro la pubblicazione in gazzetta ufficiale non facciano la fine delle norme dell'autoconsumo e delle comunità energetiche rinnovabili e poi c'è un'altra questione e l'Italia a Rera sostiene che non è possibile effettuare lo store in bolletta dell'energia autoprodotta e condivisa tra gruppi il che limita non solo il vantaggio economico e il supporto reale alla povertà energetica che è uno dei pilastri tra l'altro dei Paes ma limita anche la capacità di spiegare il meccanismo cioè si è resa la cosa un po' particolare per ridurre l'impatto che le comunità energetiche hanno nei confronti dell'appartenere a un utilità di tipo tradizionale e questo era presente nello spirito della Red 2 purtroppo non è scritto nero su bianco ora è scritto nero su bianco finalmente ci siamo riusciti con una serie di azioni le quali ho partecipato anche io ora come consulente legislativo si parla di tutela delle famiglie vulnerabili c'è un accento sulla povertà energetica poi ve la mando la presentazione non c'è bisogno Gasperini ve la mando ve la mando è anche più ampia di questo questo è l'emendamento sull'energia bene comune e chiudo che la riforma del mercato elettrico avrebbe bisogno di qualcosa di più cioè il superamento del merit order quel principio tale per cui il costo del kilowattora non è determinato da un costo virtualmente zero dell'energia rinnovabile ma dell'ultimo metro cubo di gas che viene utilizzato per soddisfare le richieste del mercato elettrico questa è una cosa che limita la convenienza la diffusione delle energie rinnovabili ed è quindi il disaccoppiamento tra kilowattora di energia fossile e kilowattora di energia rinnovabile deve essere uno degli obiettivi reali affinché si possa sia elettrificare sia raggiungere un 100% rinnovabile la riforma del mercato elettrico è benvenuta però è come una patch di un sistema operativo vecchio che non è adeguato ai tempi e che non viene riscritto completamente da capo poi ci sarebbero tutta una serie di questioni sul Green Deal che è a rischio mi auguro che ne parleremo prossimamente perché c'è bisogno forse di un convegno apposito sul futuro del Green Deal che è molto molto imperitivo come era in pericolo la direttiva EPPD che è stata un po' anacquata però perlomeno è arrivata a gol proprio ieri grazie grazie a te Dario grazie anche al pubblico in sala al pubblico a casa che è rimasto fino ad adesso io lascerei approfittando del fatto che non l'hanno richiamato in aula il nostro ospite Antonio il senatore Antonio Trevisi vi ringrazio per la partecipazione sì allora giusto per tirare le conclusioni di questo convegno io sto cercando con carezza mensile sempre di organizzare un convegno sui temi energetici probabilmente ne faremo un altro sul futuro del super bonus anche sulle case green essendo stata approvata ieri la direttiva è un argomento che ci interessa però spesso quello su cui io vorrei che un po' il nostro modo di pensare un po' cambiasse pensiamo che deve sempre arrivare qualcosa dall'alto io questi temi mi sono appassionato quando ero studente poi ho realizzato nel mio campus 15 parcheggi protocoltaci l'università per cui lavoro oggi ma già nel 2009 era l'università che produceva più energia solare in Italia anzi in Europa il campus dell'università del Salento con 15 parcheggi protocoltaci per oltre 3 megawatt e mezzo di pannelli di 15 anni fa adesso quando saranno sostituiti l'università riuscirà a produrre oltre avrà una potenza di oltre 3 megawatt considerate riuscirà a produrre ad autoprodursi oltre un milione di energia come valore economico all'anno quindi praticamente potrebbe abbattere le tasse degli studenti cioè di cose se ne possono fare non dobbiamo mai aspettare anche andando ad individuare l'habitat dove vivete se è un condominio una casa singola quindi se è un condominio parlare con l'amministratore di condominio per realizzare un autoconsumo collettivo se è una casa singola iniziare annualmente io cerco di tendere all'indipendenza energetica ma non è che un investimento di questo tipo si può fare in pochi mesi magari un anno uno fa l'impianto fotovoltaico considerando c'è comunque una detrazione del 50% partirei il reddito energetico quindi per chi ha un iso sotto i 15 mila euro l'impianto fotovoltaico sarà pagato al 100% dallo Stato cioè ci sono una serie di iniziative poi non è che io le dico per questo tipo preso tutte le leggi del Movimento 5 Stelle per la verità sarà un caso però sia le comunità energetiche come diceva un comico sarà un caso non credo sono tutte le leggi comunque sono partite dal Movimento 5 Stelle però le possibilità le abbiamo gli strumenti ci sono bisogna iniziare a progettare un modo di vivere diverso e vi assicuro che non è antieconomica la transizione energetica come vogliono far credere no assolutamente no è assolutamente invece vantaggiosa per le vostre tasche ci sono studi che dimostrano che quando arriveremo al 100% di fonti rinnovabili ogni italiano avrà un reddito maggiorato agli attuali valori di 6.000 euro all'anno quindi ci sono 6.000-6.500 all'anno non che risparmieremo circa 500.000 morti in 30 anni abbiamo una serie di di dati positivi quindi è un cambiamento che dobbiamo fare logicamente qual è il limite il limite è l'investimento iniziale io credo che il super bonus sia stata un'ottima idea forse dopo la pandemia era necessario un decalaggio perché logicamente quello con il 110 andava bene in una fase pandemica perché a fatto di partire l'economia infatti il PIL è cresciuto poi man mano però gli incentivi intorno al 70% per fare queste sostituzioni ci sono e li dobbiamo utilizzare poi è normale che lo Stato deve prevedere per gli edifici popolari per chi non ha redditi perché poi non tutti hanno una capienza fiscale tale di poter utilizzare questi incentivi se non solo voi chi ha i soldi può fare queste modifiche però sostanzialmente le modifiche sono alla portata di tutti bisogna impegnarsi voi noi come consumatori abbiamo un potere fortissimo sta in noi la scelta tante volte parliamo di cambiamenti climatici c'è un gruppo giovani universali in Parlamento che si occupa di questi temi per il loro futuro perché noi comunque voglio dire lasceremo a loro i problemi che le generazioni precedenti hanno creato quindi noi dobbiamo pensare che è possibile un modello di sviluppo diverso è conveniente farlo e dobbiamo farlo con le nostre scelte di consumo tante volte parliamo contro gli allevamenti intensivi magari allora compriamo più legumi cerchiamo di utilizzare meno la carne cioè sono scelte che il consumatore ha il piano induzione io ho visto ormai che costa 200-300 euro quindi chi si installa un impianto fotovoltaico inizia ad elettrificare la casa magari pensando alla cucina e pensando magari anche al benessere della qualità dell'aria indoro perché voi spesso non lo sapete ma la qualità dell'aria all'interno dei casi è peggiore di quella che c'è all'esterno perché è un'aria viziata quindi sono scelte che noi dobbiamo fare il nostro compito è informarvi ecco perché sono nati questi convegni però non potete sempre ecco spesso vedo che ci si aspetta che qualcun altro sostituisca quello che ognuno di noi dovrebbe fare quindi credo che il primo compito è quello di informare magari chi vive in condominio di questa opportunità iniziare a pianificare un condominio green sicuramente con questa direttiva green ci saranno gli incentivi ma vi ho detto già ci sono adesso c'è 70 più 30 so che c'è tante aziende che si stanno attivando per finanziare quel 70% a costo zero per i condomini e quel 30% viene ripagato dai risparmi energetici quindi può alla fine rendere un condominio green alla fine alla fine dei conti c'è un risparmio economico considerevole sono cose che si possono fare il super bonus è stato quasi dirompente andava forse spalmato più nel tempo però la situazione pandemica necessitava di una misura così forte perché l'economia era bloccata il lockdown non consentiva più di fare alle imprese di lavorare quindi serviva una misura così potente ecco perché quel 110 perché serviva far ripartire economia però poi col governo Draghi purtroppo quel super bonus è stato gestito male da un intervento eccezionale che doveva fare ripartire economia non è stato trasformato in un intervento strutturale che poteva durare nel tempo rispettando anche noi i vincoli e le esigenze di bilancio questo non è stato fatto purtroppo col governo Draghi e da lì è nato poi questo blocco del super bonus adesso comunque c'è un incentivo che è del 70% che non è un incentivo trascurabile è un incentivo importante e quindi secondo me dobbiamo andare in queste direzioni le comunità energetiche sono un'opportunità importante però io mi rendo conto anche delle difficoltà nella gestione quindi io credo che le comunità energetiche spesso saranno gli stessi distributori comunque saranno aziende a proporvele diciamo faranno tutto loro magari gli impianti voi darete il diritto di superficie e poi otterrete magari un risparmio in bolletta credo che sarà che probabilmente verranno realizzate in diversi modi ci saranno sicuramente diverse configurazioni ma una di quelle prevalenti sarà quello che sarà il distributore energetico comunque una società grossa a proporvela dicendo facciamo la comunità energetica ci assumiamo i costi noi e vi garantiamo magari un 15-20% di abbattimento sulle bollette io vi ringrazio non so se c'erano domande abbiamo ancora qualche minuto quindi se avete domande siamo qui a disposizione nessuna mano si alza non siate timidi va bene allora direi che abbiamo o li abbiamo stancati o li abbiamo bombardati di informazioni o entrambe le cose quindi io ringrazio ancora il senatore Trevisi per l'ospitalità ringrazio tutti voi ringrazio chi ci ha seguito a casa e al prossimo convegno su questi e su altri temi che riguardano una transizione ecologica del nostro paese grazie a tutti 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 grazie a tutti